abolire la sciattezza come mi sono innamorato della precisione quando ho lavorato in giappone il livello successivo di 2 second lean l'idea chiave quando scrivo un libro voglio che il significato sia il più chiaro possibile per facilitare i miei lettori provo a includere una sezione che riassuma i miei pensieri in un solo semplice concetto ad esempio nel mio primo libro 2 second lean il mio obiettivo era quello di insegnare al lettore a vedere gli sprechi e sistemare le cose che ti danno fastidio nel mio secondo libro salute lean l'obiettivo era quello di insegnare al lettore come trattare il tuo corpo come se fosse una ferrari nel mio terzo libro viaggiare lean il mio obiettivo era quello di insegnare come viaggiare leggeri e con tutto il cuore nel mio quarto libro vita lean il mio obiettivo era di insegnarti a conoscere te stesso ora in abolire la sciattezza il mio obiettivo è quello di farti innamorare della precisione 1 il primo passo è di riconoscere quanto sei veramente sciatto 2 il prossimo passo è di impegnarti ad abolire la sciattezza dalla tua vita 3 il passo finale è di innamorarsi della precisione per la gioia e l'abbondanza che questa apporterà alla tua vita come otterrai questa nuova prospettiva faremo un'immersione in ciò che contraddistingue la cultura dei giapponesi ed esploreremo i motivi per cui hanno un profondo rispetto per le persone e per le risorse vedremo anche la loro ossessione per la sopravvivenza e come hanno sviluppato grandi occhi e grandi orecchie perché non sono mai soddisfatti e migliorano costantemente tutto voglio che tu abbia un momento di satori che in giapponese significa illuminazione improvvisa che ti riveli una nuova prospettiva di questa cultura strabiliante per i giapponesi la precisione porta alla qualità la qualità porta alla fiducia la fiducia porta alla sopravvivenza per me l'epifania di abolire la sciattezza e innamorarsi della precisione è stato l'inizio di uno dei viaggi più importanti della mia vita ho identificato la mia sciattezza e ho usato il modo di pensare giapponese per trasformare la mia vita in un nuovo kodawari che in giapponese significa ricerca senza compromessi ed implacabile e questa ricerca è della precisione e della qualità la mia speranza e preghiera è che questo libro possa dare inizio a un viaggio nella tua vita che crei maggiore appagamento e rispetto per l'abbondanza e le benedizioni che sono stati dati a tutti quanti noi l'idea chiave vuoi innamorarti della precisione arigatou gozaimasu che in giapponese vuol dire grazie un libro non nasce per caso è frutto di un processo molto deliberato e perciò vorrei dare credito a chi è dovuto il primo ringraziamento è per la apple per lo sviluppo delle funzionalità vocali e di testo l'intero libro è stato dettato usando il riconoscimento vocale di iphone e del macbook air poi quando completavo ogni capitolo riascoltavo quanto scritto usando la funzione di sintesi vocale queste due caratteristiche sono state rivoluzionarie e hanno reso la stesura di questo libro molto più semplice greg mccune per aver scritto il libro essenzialism dopo averlo letto ho scritto le cose assolutamente indispensabili che devo fare ogni giorno per sentirmi fruttuoso e realizzato una di queste era di scrivere alcune parole di questo libro ogni giorno quell'abitudine semplice non negoziabile e con una bassa soglia di impegno mi ha consentito di completare questo libro a tempo di record non ho mai avuto la pressione di dover sfornare un intero capitolo in un fine settimana o in un giorno libero scrivendo un po' ogni giorno non ho avuto alcuna pressione e alla fine il libro è stato completato senza sforzo mia moglie lianne per l'edizione editoriale per la revisione di ogni capitolo e per aver fornito suggerimenti preziosi che hanno contribuito a migliorare questo libro mia figlia angia che ha consultato la mia voluminosa libreria fotografica per selezionare le immagini e organizzarle per il layout finale di questo libro voglio poi ringraziare mamita keda che non solo è una grande co leader della two second lean japan experience che prima si chiamava japan study mission ma mi ha anche illuminato sul modo di pensare del popolo giapponese mamisan ha ritenuto che questo libro fosse degno di essere tradotto in giapponese per cui lo ha instancabilmente tradotto con grande cura e precisione in modo che potesse essere pubblicato simultaneamente in giapponese e in inglese che enorme risultato e che sacrificio jamie simpson la nostra incredibile graphic designer della fast cap per avere impaginato quattro dei miei cinque libri ha fatto un lavoro spettacolare migliorando il processo continuamente e il tutto sempre con un sorriso sul suo volto lori turley la mia assistente che gestisce tantissimi aspetti della mia vita dall'organizzazione delle two second lean japan experience alla gestione dei miei social media e per darmi ogni tanto degli scappellotti in testa una volta che i layout dei miei libri sono completati lori apporta le modifiche finali lori cerca i particolari più minuti nella speranza che i miei libri siano quanto più umanamente possibile perfetti greg otterholt che ha curato con pazienza ed efficacia la registrazione di tutti e cinque i miei audiolibri mi piace lavorare con lui e da lui imparo tantissimo in ogni audiolibro si notano la sua diligenza e il duro lavoro nel dare vita alle versioni audio per persone di tutto il mondo infine e soprattutto voglio ringraziare tutti i miei fantastici amici e colleghi in giappone negli ultimi due decenni mi hanno insegnato tantissimo sul loro paese ho sviluppato amicizie durature e significative con moltissimi giapponesi molti di loro mi sorridono e pensano che io sia pazzo ma questo rende tutto ancora più divertente mentre mi mostrano i loro grandi sorrisi dicono polsan sei così appassionato niente di tutto ciò sarebbe accaduto senza la loro pazienza e generosità mentre mi guidavano in questo viaggio di scoperta e di trasformazione arigatou gozaimasu capitolo 1 nande nande in giapponese vuol dire perché perché ho scritto questo libro innanzitutto perché volevo approfondire la mia comprensione di come i giapponesi vivono le loro vite l'idea di raggruppare 18 anni di apprendimento in un unico documento mi ha tratto molto se riesco a capire perché i giapponesi fanno quello che fanno sarà più facile per me abbracciare il loro straordinario modo di pensare quanto più tempo dedico nel meditare e nello scrivere su questo argomento tanto più posso applicare con successo queste idee profonde nella mia vita questo libro è un grande progetto a lungo termine che mi permette di continuare a rivisitare le idee per assicurarmi che pervadano completamente il mio pensiero la toyota ha in ognuna delle sue fabbriche uno striscione forse è il più semplice e più profondo che io abbia mai visto dice buon pensiero buoni prodotti è già la chiave sta proprio nel pensiero in secondo luogo ogni volta che parlo con altre persone e trasmetto loro la filosofia lean la profondità della mia comprensione può influire direttamente sulla gioia che questi provano nel loro viaggio lean tanto più sono in grado di dimostrare chiaramente e semplicemente agli altri tutto ciò che ho imparato e quanto presto questi si meraviglieranno nell'applicazione di questo pensiero straordinario adoro condividere la mia storia sul mio viaggio lean ispirare e influenzare la gente in tutto il mondo è per me una pura gioia infine l'ho fatto per il mio puro piacere adoro il modo di pensare giapponese e per me è divertente esserne avvolto ho lavorato molto duramente per disegnare e per creare un giardino giapponese a casa mia e ogni volta che mi cimmergo e me ne prendo cura provo grandissimi piacere e gioia allo stesso modo questo libro è una passeggiata nel mio giardino giapponese della comprensione del buon pensiero quindi che cosa c'è in serbo per te perché dovresti leggere questo libro se sei interessato a conoscere una delle culture più sofisticate e ponderate della storia moderna questo libro potrebbe interessarti se ti ritrovi in una situazione in cui le risorse sono limitate e vuoi scoprire una via da seguire e prevalere nonostante i tuoi limiti questo libro potrebbe fornirti informazioni preziose su come i giapponesi ci riescono continuamente se vuoi conoscere una cultura che ha sbagliato in maniera catastrofica per poi imparare dai propri errori questo libro potrebbe interessarti i giapponesi hanno superato enorme avversità sia autoimposte sia provenienti da condizioni esterne sviluppando tuttavia una delle culture più straordinarie al mondo come hanno fatto questo libro ti darà le mie intuizioni su come lo hanno fatto e su come ho applicato il loro pensiero nella mia vita e nel mio lavoro in sintesi ho scritto questo libro per organizzare il mio apprendimento per sperimentare il puro godevimento che viene dall'illuminazione e per ringraziare il popolo e la cultura giapponese per tutto quello che mi hanno insegnato l'idea chiave gioia pura capitolo 2 non essere critico non fraintendermi ci sono momenti in cui bisogna essere critici e io sono un forte sostenitore del pensiero critico la cosa più importante che io abbia imparato in quattro anni di università è stato come pensare in modo critico tuttavia per comprendere appieno ciò che voglio trasmetterti con questo libro dovrai liberarti da ogni preconcetto ed evitare di focalizzarti su quelli che sembrerebbero i problemi e le carenze dei giapponesi mi ricordo che quando andai in giappone per la prima volta nel 2000 mentre stavamo sull'autobus il mio sensei maestro in giapponese brad mi disse non essere critico brad sapeva bene perché fosse così importante non essere critici infatti sebbene sia occidentale brad è cresciuto in giappone e sotto tutti gli aspetti pensa e parla come i giapponesi brad conosceva le carenze della cultura giapponese e questo lo frustrava in molte occasioni tuttavia mi avvertì che se io fossi andato in giro a cercare tutti i difetti nelle cose che fanno i giapponesi mi sarei inevitabilmente perso tutti gli aspetti positivi di quello che facevano l'obiettivo del viaggio era imparare e adattarsi a principi intelligenti questo libro riguarda tutte le cose positive che la cultura giapponese ci offre in effetti la mia vita è migliorata drasticamente grazie a quei principi e concetti mi vengono i brividi se penso a come sarebbe la mia vita se fossi stato accecato da uno spirito critico il consiglio di brad per me era il più importante che un giovane studente della cultura giapponese potesse mai ricevere ho incontrato molte persone critiche nei confronti del giappone e della cultura giapponese purtroppo per loro si perdono tutti gli aspetti meravigliosi e le realizzazioni di questo popolo straordinario devo anche dire che ho letto molti libri di persone che sono rimaste affascinate dai giapponesi come quello di paul knight fondatore della nike che ha descritto il suo primo viaggio in giappone come fosse una delle esperienze più sorprendenti della sua vita steve jobs è stato un altro che ha capito la straordinaria cultura e il modo di pensare giapponese questa è la mia prospettiva non è assolutamente positiva ma per la maggior parte non è stato altro che un'esperienza benefica di apprendimento e di comprensione profonda scrivo questo libro con profonda gratitudine la stessa gratitudine che ho verso i miei genitori che hanno fatto un lavoro straordinario nell'insegnarmi nel formarmi e allevarmi con risorse molto limitate erano forse perfetti i miei genitori assolutamente no hanno fatto errori certamente tuttavia quegli errori li ho rimossi dalla mia mente ho imparato tanto da loro è un'immensa gratitudine verso i miei genitori che si sono sforzati tutta la vita per allevare e nutrire sia mio fratello sia me è meglio cercare di capire anziché essere capiti il consiglio è di non osservare il giappone con il filtro del modo in cui fa le cose cerca invece intensamente di capire il perché fanno le cose in un certo modo durante il mio quarto viaggio in giappone norman bodek il leader del viaggio ha detto qualcosa che non dimenticherò mai dopo la seconda guerra mondiale i giapponesi impararono con successo dagli americani come sviluppare una potente economia manufatturiera in gran parte hanno copiato ciò che gli americani stavano facendo e poi in tipico stile giapponese hanno migliorato tutto non solo hanno migliorato tutto ma hanno anche trovato un modo per sostenere il tutto proprio come hanno sostenuto così efficacemente la loro cultura e le loro tradizioni l'ammonimento di norman per noi era che avremmo dovuto poppare dalle mammelle della cultura giapponese è una figura retorica un po' rozza quindi perdonami ma rende perfettamente l'idea dobbiamo imparare da loro perché sono stati estremamente astuti nell'apprendere da noi americani durante un recente viaggio in vietnam ho osservato una mucca che camminava attraverso un campo e il suo vitello la seguiva da vicino il vitello si muoveva da una parte all'altra cercando di nutrirsi c'era un sacco di latte da prendere ma il vitellino doveva lavorare sodo per raggiungerlo e per me la mucca è il giappone pieno di tonnellate di nutrimento per rendere il nostro corpo forte sicuramente non è perfetta ma ci può fornire un nutrimento incredibile e io sono quel vitellino mi muovo avanti indietro cercando di imparare freneticamente il più possibile e la domanda è chi sei tu sei un piccolo vitello umile che saltella avanti indietro cercando di attingere freneticamente a tutta questa saggezza e nutrimento l'idea chiave poppa dalle mammelle e si una spugna non criticare capitolo 3 la mia storia la mia vita cambiò radicalmente nel 2000 quando due giovani dal giappone vennero alla fast cap per aiutarmi a migliorare i processi di produzione nel mio primo libro to second lean sono entrato nei dettagli di quello che è successo riassumendo quanto c'è nel libro to second lean mi dissero che ero completamente in alto mare da lì iniziarono a implementare il toyota production system e a insegnarmi i concetti di produzione lean i risultati furono sorprendenti alcuni dei nostri processi furono ridotti da 45 a 5 minuti pochi mesi dopo mi invitarono a partecipare alla mia prima missione di studio in giappone così ho potuto vedere in prima persona che cosa stavano facendo la toyota e la lexus quel viaggio mi ha cambiato la vita nel corso dei dieci anni successivi tornai in giappone altre due volte per imparare più a fondo e per comprendere il modo di pensare dei giapponesi ora andiamo avanti velocemente fino al 2015 ed è qui che la storia diventa davvero interessante stavo seduto su una spiaggia in costa rica e rispondevo alle mie email tra queste ce n'era una il cui oggetto era conferenza in kazakhistan il mio primo pensiero fu dove diavolo è il kazakhistan mentre continuavo a leggere sembrava proprio che mi stavano chiedendo di andare in kazakhistan per parlare di to second lean il bi group è la più grande società di costruzioni in kazakhistan che gestisce di tutto dalle abitazioni residenziali alla costruzione di strade ponti raffinerie di petrolio e quant'altro la prospettiva mi aveva incuriosito non passò molto tempo e mi ritrovai in una videoconferenza con metin uno dei dirigenti del bi group e olga la sua assistente dopo qualche mese in pieno inverno atterrai in kazakhistan per iniziare un percorso di quattro anni di insegnamento di lean il terzo anno ha presi una storia affascinante il bi group aveva inizialmente prenotato jim collins autore di good to great per parlare alla loro conferenza annuale dei dirigenti jim aveva accettato di fare il discorso ma all'ultimo momento era sorto un conflitto e dovette annullare l'impegno avendo urgentemente bisogno di un relatore metin iniziò a cercare su youtube qualcuno che fosse in grado di tenere discorsi di eccellenza operativa e produzione lean a un certo punto si è imbattuto in alcuni dei miei video ha detto questo è un pazzo il resto lo sapete dopo lo scambio di email avevo preso il posto di jim collins sono affascinato dalle serie di eventi e dai colpi di scena che hanno portato alla realizzazione di questo libro il pensiero lean mi ha proiettato nel viaggio più emozionante e meraviglioso della mia vita e mi ha permesso di incontrare persone straordinarie all'inizio della collaborazione con il bi group non sapevo in cosa mi stessi imbattendo quando arrivai in kazakhistan per quella prima consulenza la bi group era già un'azienda straordinaria fondata da haidin rakim baiyev un ingegnere di 45 anni che non si pone alcun limite in quattro anni intensi ho insegnato alle persone del bi group e allo stesso tempo ho osservato la crescita di questa impresa e dei suoi collaboratori una delle mie più grandi abilità è quella di vedere gli sprechi e il bi group aveva un bisogno disperato sia di imparare a vedere gli sprechi sia del pensiero lean in generale infatti gli sprechi nel bi group erano ovunque ed era difficile decidere da dove cominciare per esempio atterrai ad astana le 5 del pomeriggio e quando fui prelevato all'aeroporto l'autista sembrava non avere la minima idea di dove dovesse portarmi rimasi seduto per circa 45 minuti in un'auto parcheggiata mentre l'autista faceva varie telefonate alla fine tornò e cominciò a guidare passava il tempo passavano i chilometri e vedevo solamente bianche distese di neve che diventava sempre più alta dopo circa due ore ci fermammo per andare al bagno in una stazione di servizio che sembrava chiusa o abbandonata feci i miei bisogni su un cumulo di neve dietro alla stazione di servizio risali in macchina e continuiamo il nostro viaggio dopo tre ore e mezza arrivamo finalmente in un bellissimo resort su un lago ovviamente era tutto bianco ed ero convinto che fossimo in siberia i successivi 10 15 minuti andarono relativamente bene feci il check in e andai nella mia stanza a quel punto avevo viaggiato per oltre 36 ore ed ero stanco morto e l'unica cosa che volevo fare era di andare a dormire mi tolsi i vestiti misi a caricare il telefono e mi sdraiai sul letto all'improvviso senti bussare la porta mi alzai mezzo parcollante e andai verso la porta in mutande aprì la porta e veni salutato da olga e da un'altra donna che mi diedero un grande abbraccio e mi dissero quanto erano felici che fossi arrivato in kazakhistan eccomi qua l'oratore ospite dagli stati uniti a dare la mia migliore prima impressione possibile da non crederci olga esclamò o perbacco mi disse che mi avevano portato nel posto sbagliato e che dovevo andare ad astana la capitale del kazakhistan dove ero atterrato cinque ore prima un altro gruppo di persone mi stava aspettando per andare presso i loro cantieri e per fare una visita a genba che è il termine giapponese che in lingua dire andare sul campo non potevo credere alle mie orecchie e le chiesi che cosa devo fare con tutte le mie cose olga mi disse di non preoccuparmene e di prendere solo ciò di cui avevo bisogno per una notte perché l'autista era davanti ad aspettarmi per riportarmi indietro siccome sono uno che vede scarti ovunque a quel punto la mia mente stava frullando con tutte le montagne di scarti che avevo appena visto e vissuto in prima persona senza considerare la costosa stanza d'albergo che sarebbe rimasta inoccupata fatta eccezione per la mia valigia e qualche capo di vestiario sparso qua e là va bene dissi e mi trascinai in mezzo addormentato fino alla macchina che mi aspettava ripartimmo per tornare indietro attraversando di nuovo la siberia e fermandoci in altre stazioni di servizio abbandonate una volta arrivato ad astana lo stesso pomeriggio mi portarono al primo cantiere non potevo credere a quello che stavo vedendo c'erano lavoratori nel fango fino ai polpacci camion che attraversavano paludi di fango come se fossero scolari che cercavano di fare quanto più caos possibile e il tutto mentre cercavano di costruire un grattacielo residenziale la mia testa stava girando vorticosamente visitammo diversi cantieri ma nel peggiore dei casi mi dovettero accompagnare alla porta principale dell'ufficio in modo che potessi saltare dall'auto direttamente nell'ufficio perché davanti alla porta c'era un'enorme profonda pozza d'acqua dopo che mi riportarono in albergo finalmente dormi per 48 ore filate una volta che mi riposai tornammo al resort dove avrei parlato a 100 dei più alti dirigenti del bi group a un certo punto del mio discorso chiesi ai dirigenti perché i loro cantieri fossero invasi da fango e acqua gli dissi che essendo costruttori di strade perché non erano in grado di costruire una strada che drenasse correttamente in modo che non lavorassero tutti nel fango all'inizio mi guardarono sbalorditi per la mia schiettezza ma subito dopo un piccolo sorriso apparve su molti dei loro volti perché erano consapevoli degli sbagli che stavano facendo poi spiegai che non dovevano guardare troppo lontano per vedere gli sprechi tutto quello che dovevano fare era guardare il modo in cui mi vennero a prendere all'aeroporto mi avevano portato in un inutile viaggio di sette ore andata e ritorno in siberia a causa della mancanza di comunicazione quando sono stato presentato prima del mio discorso uno dei dirigenti disse che mi avevano invitato a insegnare loro gli sprechi ma si chiedeva se pensassero davvero che fosse necessario darmi gli strumenti per poi picchiarli sulla testa francamente questa è stata la risposta perfetta da un leader di vertice umiltà e la consapevolezza di non avere sempre tutte le risposte a questo punto stava iniziando il viaggio lean del bi group un viaggio che avrebbe trasformato un'impresa già di successo in un'impresa lean di successo e ricca di continui miglioramenti in breve tempo il bi group iniziò a fare miglioramenti e riuscì persino a migliorare il mio modello 2 second lean anziché realizzare video e pubblicarli su youtube idane decise di suddividere l'azienda in chat di gruppo di 100 persone su whatsapp in questo modo ogni unità aziendale era in grado di pubblicare nella chat di gruppo i propri video di miglioramento prima e dopo questo consentiva un flusso di informazioni veloce e semplice pensai fosse un'idea geniale non è per caso che idane ha costruito la più grande impresa di costituzioni del kazakhistan dopo il mio secondo viaggio in kazakhistan mi fu chiesto di organizzare un viaggio in giappone per insegnare ai massimi dirigenti del bi group come pensano i giapponesi fino ad allora avevo partecipato a sei di questi viaggi ma non ne avevo mai organizzato uno nel tipico modo del bi group mi fu chiesto di organizzare un viaggio di studio in un solo mese sembrava impossibile ma in qualche modo riusciva a farlo poi idane mi chiese se doveva partecipare ricordiamoci chi sia idane idane dirige un'impresa con un fatturato di miliardi di dollari e il suo tempo è molto prezioso non può permettersi di perdere neanche un secondo gli dissi che poteva aspettarsi una tra le due seguenti cose ha un grande sperco di denaro oppure la settimana più importante della sua vita un mese dopo 18 dei massimi leader del bi group tra cui idane sbarcarono in giappone per trascorrere una settimana che avrebbe cambiato le nostre vite per sempre l'idea chiave vedi scarti dappertutto capitolo 4 la two second lean japan experience così dopo quattro settimane di pianificazione intensa nell'agosto del 2016 i massimi leader del bi group sbarcarono in giappone insieme attraversammo il paese da nagoya a kyushu con l'obiettivo di vedere in azione il sistema di produzione della toyota il tps e dei loro fornitori di secondo livello avevo invitato come oratori il signor amizawa ex presidente e ceo della toyota motor manufacturing in kentucky e vicepresidente della lexus nonché tadahiro kavada presidente di kavada industries uno tra i più grandi costruttori di ponti in asia inoltre avevo chiesto a venu srinimastan presidente del gruppo tvs di venire dall'india per tenere un discorso di un'ora al team esecutivo sul suo trentennale percorso lean preparai tutto con la massima cura e nei minimi dettagli affinché ogni membro del gruppo esecutivo del bi group ricevesse un'impressione profonda e tutto andò meglio del previsto dopo tre giorni di viaggio e di osservazione di esempi sbalorditivi di eccellenza e di precisione giapponesi haidin si è seduto accetto a me sull'autobus e ha detto con il suo profondo accetto kazako paul paul ho bisogno che tu organizzi un addestramento per 150 dei miei migliori leader voglio inviarne 17 ogni settimana in giappone in modo che tutti loro possano vedere quello che ci hai mostrato wow la mia testa cominciò a girare da un lato questa era una grande opportunità per me di crescere e imparare ma allo stesso tempo era anche una grande responsabilità l'investimento di così tanto denaro e tempo richiedeva un impatto rilevante e il rischio di fallimento era molto alto oltretutto haidin voleva che questo costasse una frazione del costo di un viaggio tradizionale e che durasse solo tre giorni la pressione continuava aumentare ma nel classico stile giapponese che ormai stavo acquisendo dissi solo che l'avrei fatto anche se non sapevo come lo avrei fatto così la mia vita ebbe un cambiamento drastico di priorità e cominciai a preparare la missione di studio in giappone più lean che avessi mai fatto fino ad allora ogni missione di studio in giappone era sempre migliore di quella precedente guidavo quattro tour consecutivi poi mi prendevo una pausa e poi ne seguivano altri quattro ogni settimana implementavamo con attenzione i miglioramenti suggeriti dalle valutazioni della settimana precedente ciò rendeva il tour sempre più efficace divertente e significativo in passato le missioni di studio in giappone riguardavano esclusivamente l'apprendimento di concetti lean ma erano tutt'altro che lean nel modo in cui erano organizzate non ci siamo mai accontentati di quanto facevamo e io ero determinato a cambiare la situazione avevamo bisogno di realizzare un miracolo raddoppiare il contenuto ma dimezzando nel costo ora facciamo un salto indietro ai miei primi viaggi in giappone nel gennaio del 2015 ricevetti una chiamata da norman bodek che ho considerato il padre di lean negli stati uniti negli anni 70 e 80 norman riconobbe cosa stessero facendo i giapponesi e iniziò a tradurre alcune delle opere classiche di tai chi ono e shigeo shingo norman ha messo su un'azienda multimilionaria che ruota sulla traduzione dei classici del pensiero e dei sistemi produttivi del giappone nonché sul loro insegnamento e la diffusione nei paesi di lingua inglese norman mi chiese se volevo andare in giappone con lui in una missione di studio senza un attimo di esitazione gli dissi di sì ero estremamente eccitato di tornare in giappone in precedenza avevo partecipato a tre viaggi in giappone con brad schmidt il mio originale sensei che è insegnante in giapponese e tutti e tre i viaggi hanno avuto un impatto profondo sul modo in cui pensavo e su come ho condotto la mia attività l'unica differenza ora era che invece di essere un partecipante ero in un certo senso un co leader a quel tempo norman aveva 80 anni e non aveva più il seguito che aveva quando era più giovane non aveva molte persone iscritte al viaggio tuttavia dopo la pubblicazione del mio primo libro tu sai con lean io avevo raggiunto un forte seguito pertanto non appena ho sparso la parola tra i miei amici e follower in poco meno di una settimana ci furono 30 prenotazioni questo mi spinse a essere decisamente determinato affinché il viaggio avesse il massimo successo nel corso dei mesi successivi norman e io discutemmo sugli oratori e sui luoghi da visitare premetti su norman affinché le visite sui siti fossero sempre migliori norman era il più accomodante possibile ma sicuramente non era abituato a lavorare con qualcuno così invadente ed esigente alla fine io e norman organizzamo un viaggio di cui rimasi ampiamente soddisfatto è raggiunto il momento e sia io e norman sia i partecipanti al tour eravamo arrivati in giappone non dimenticherò mai il primo giorno in cui ci siamo incontrati in una sala conferenza norman chiese a tutti noi qual è l'essenza del giappone tutti nella stanza risposero ma nessuno diede la risposta giusta incluso me norman ribatté la qualità il giappone è sinonimo di qualità tutto per loro è basato sulla qualità quella rivelazione avrebbe posto le basi per una settimana di grande impatto per tutti noi oltre ad avere incontrato per la prima volta masamoto a mesawa c'erano molte altre cose che avevano attirato la mia attenzione al termine del viaggio stilai un lungo elenco dettagliato di tutto ciò che poteva essere migliorato non fraintendetemi tutti i partecipanti avevano imparato tantissimo solo che c'erano così tante cose che avrebbero potuto essere perfezionate norman bottasua era disposto a fare miglioramenti ma lui non era così determinato quanto lo ero io appena un mese dopo ricevetti un altro invito per andare in giappone con john shook e i membri della young president's organization anche questo viaggio era molto buono ma era anche molto costoso circa 12 mila dollari usa decisi di partecipare anche per capire perché costasse così tanto nonostante fosse di qualità quel tour era comunque pieno di sprechi qualche mese dopo norman bodek mi telefonò per dirmi che voleva organizzare un altro viaggio studio perché il precedente aveva avuto un enorme successo questa volta ebbi l'opportunità di apportare alcuni miglioramenti significativi poiché il mio nome era sul programma ufficiale divenne ancora più esigente di prima anche se questo viaggio ebbe un enorme successo ritenni che avrebbe potuto essere migliorato ancora di più torniamo ora al primo viaggio studio che organizzai per il bi group questa volta avevo controllo totale sull'organizzazione ed ebbi la possibilità di pianificarlo come volevo io nei minimi dettagli il primo spreco che balzava all'occhio è che passavamo troppo tempo sull'autobus con attività senza valore aggiunto nel migliore dei casi riuscivamo a visitare due loghi ogni giorno sembrava una soglia molto bassa se si considerava quanti soldi e quanto tempo erano stati investiti per portare in giappone leader da tutto il mondo ero determinato ad aumentare le visite in loco a un minimo di tre al giorno ci riuscì eliminando due grandi sprechi in primo luogo il tempo di viaggio cercai di individuare luoghi concentrati in un'area specifica in secondo luogo ogni volta che arrivavamo negli impianti da visitare i dirigenti ci portavano nella loro sala conferenze dove ci davano informazioni per circa 45 minuti pensai che avremmo potuto facilmente fornire queste informazioni mentre viaggiavamo sull'autobus così quando giungevamo in fabbrica potevamo andare direttamente sul luogo e vedere sia l'organizzazione sia i metodi con cui lavoravano questi due cambiamenti migliorarono la qualità e ridussero la durata dei tour all'inizio i giapponesi storsero i loro nasi per questo nuovo approccio perché non erano abituati a fare le cose in questo modo tuttavia alla fine capirono il mio ragionamento e in poco tempo tutti accettarono con gioia i cambiamenti in puro stile lean siamo andati direttamente al genba che è sul campo in giapponese esattamente come il single minute exchange of dice che in terminologia lean indica un processo che consente di ridurre al minimo i tempi di allestimento di un'attrezzatura di produzione facevamo tutto il lavoro di preparazione sull'autobus così quando arrivavamo al genba ricevamo informazioni a valore aggiunto e non bisognava aspettare che qualcuno collegasse i tubi e riscaldasse gli stampi altre cose che ho implementato hanno contribuito a rendere i tour più efficaci pensai di incentrare il viaggio su una o due città abbastanza vicine ad aziende di rilievo e a fornitori di secondo livello cosicché non avremmo dovuto viaggiare attraverso l'intero giappone centrando l'intera missione di studio giapponese a nagoya e toyota city siamo riusciti a ridurre drasticamente i tempi di spostamento e aumentare il contenuto inoltre avevo preso da norman bodek il concetto di trasformare l'autobus in un'università itinerante i suoi discorsi improvvisati sull'autobus erano stati molto penetranti migliorai questo approccio facendo in modo che questi discorsi seguissero un programma strutturato che aumentasse il valore aggiunto per chi partecipava al viaggio studio quella fu una mole di lavoro imponente e lo è ancora ma ho sviluppato oltre 30 lezioni diverse che presento nel corso di una settimana è come bere da un idrante alcune persone mi hanno detto di aver imparato così tanto che era equivalente a ottenere un mba nessun secondo è andato perso anche le pause bagno erano progettate per insegnare l'eccellenza giapponese in giappone infatti anche le aree di servizio sono a dir poco straordinarie dagli schermi digitali del traffico ai tabelloni digitali della disponibilità delle toilette e per i bagni stessi che sembrano assolutamente spaziali abbiamo usato ogni fermata come un'opportunità per insegnare i controlli visivi e il rispetto per le persone appena dopo la conclusione del decimo tour che ora si chiama 2 second lean japan experience mi resi conto che avevo sviluppato una piattaforma di classe mondiale ho pensato che sarebbe stata una cosa folle perdere tutto questo sforzo e tutta questa conoscenza così ho cominciato a dire in giro che chi voleva venire in giappone con me avrebbe potuto farlo per soli 4800 dollari in quattro giorni attualmente conduco circa 6 2 second lean japan experience all'anno inutile dire che non sono mai soddisfatto e non lo sarò mai perché il pensiero kaizen è ormai radicato nel mio dna ogni tour è sempre migliore di quello precedente abbiamo sviluppato un sondaggio molto ponderato che consente ai partecipanti di valutare ogni componente del viaggio dal letto dell'hotel a ogni lezione ai siti visitati inclusi i ristoranti l'ultimo giorno prima di scendere dall'autobus inviamo ai partecipanti un link al sondaggio utilizzando survey monkey in pochi minuti i risultati vengono elaborati e inviati a noi organizzatori in modo che possiamo migliorare i miglioramenti per apportare ulteriori miglioramenti questo ci consente di vedere subito cosa ha funzionato e che cosa no pochi giorni dopo iniziamo la prossima missione di studio implementando subito tutti i miglioramenti possibili il primo giorno del tour dico a tutti i partecipanti che questa non è una missione di studio su lean ma è una missione di studio lean praticheremo lean vivremo lean saremo puntuali rispettosi saremo presmurosi del modo in cui lasciamo l'autobus e in ogni area che utilizziamo stiamo praticando lean quindi quando la settimana sarà finita le nostre vite saranno cambiate e le nostre menti saranno trasformate l'idea chiave la vita offre opportunità incredibili per coloro che sono patiti del miglioramento continuo capitolo 5 quanto sono sciatto i viaggi in giappone mi hanno fatto capire a fondo come pensino e come lavorino i giapponesi nei miei giorni liberi tra i vari tour adoro immergermi nella cultura giapponese per sorseggiarla con calma un pomeriggio a nagoya sono andato in un negozio per comprare una mela e da buon studente di lean ho cominciato a esplorare questo negozio con viva curiosità era pulito ben illuminato c'era un'ottima segnaletica e tutto era facile da capire anche se non parlavo la lingua giapponese feci una breve sosta nei servizi che erano perfettamente puliti nella stanza del bagno c'era il sedile del gabinetto con un bidet incorporato e un lavandino lo specchio era pulito non c'era carta sul pavimento e non c'era nessun odore sgradevole questo bagno era più pulito di casa mia quando arrivò il momento di pagare ho dovuto fare la fila in una linea specifica che era visivamente contrassegnata sul pavimento tutti i clienti che dovevano pagare stavano pazientemente in fila e ogni volta che un cassiere era disponibile salutava cortesemente il prossimo cliente mentre stavo in fila pensai che fosse una favola fui cortesemente invitato alla cassa il cassiere mi indicò con gestilezza un vassoio dove potevo mettere la mia carta di credito misi la carta di credito sul piccolo vassoio il cassiere la prese con cura e completò la transazione alla fine mi restituì la carta di credito e la ricevuta un gesto gentile un sorriso sul suo volto e tutto era funzionato precisamente come un orologio tutto assolutamente professionale questi cassieri erano estremamente ben addestrati e molto educati mentre stavo uscendo da quel negozio fui abbagliato da un lampo di luce e mi resi conto di avere appena avuto un'esperienza di satori che in giapponese vuol dire risveglio o comprensione profonda pensai tra me e me cosa c'è di particolare in queste persone quella che ho appena vissuto è un'esperienza a dir poco folle io sono incredibilmente sciatto quanto loro sono precisi nel campo di lavoro io sono casuale e loro sono seri se mi capita di sbagliare non mi faccio grandi problemi ci vuole solo un secondo per rifarlo per loro invece rifare qualcosa un peccato e del tutto inaccettabile la loro precisione e la cura dei dettagli a dir poco mozzafiato a cominciare da come gestiscono i bagni pubblici da come ti chiamano alla cassa a come ti salutano quando varchi la porta è premura e precisione dall'inizio alla fine i giapponesi usano i loro cervelli la mia vita è una miscela variabile di quasi precisione e di casualità accompagnati da una buona dose di trascuratezza se scrivo qualcosa su un pezzo di carta che devo dare a qualcuno presso poca attenzione alla chiarezza della scrittura per non parlare dell'ortografia penso che saranno in grado di decifrare cosa ho scritto e se necessario posso spiegarglielo sciatto 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 non solo le mie azioni sono sciatte ma mostrano mancanza di rispetto per le persone con cui lavoro cosa ci vuole per scrivere correttamente e in modo leggibile ci vuole una mentalità diversa si dice che le piccole cose contano non solo fare le piccole cose con precisione spianerà la strada a una vita che scorre ma non sarò più continuamente ostacolato dalla mia trascuratezza il mio ha cresciuto rispetto per i piccoli dettagli si traduce in un più profondo rispetto per gli altri e per le risorse che mi sono state messe a disposizione se sono in fila in attesa di entrare in un cinema non mi sono mai fatto problemi di chiacchierare sul mio cellulare mentre disturbo le persone intorno a me sciatto 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 quando mi tolgo le scarpe nell'ingresso e le lascio lì senza badare a mia moglie che deve poi scavalcarle oppure inciapparci sopra sono sciatto sciatto e sciatto quando produco un video e non seguo un processo chiaro per assicurarmi che i livelli dell'audio siano corretti quindi carico le video per poi scoprire che c'è un problema e devo poi ripetere l'intero processo io sono sciatto sciatto e ancora sciatto la lista potrebbe continuare all'infinito nel momento in cui ho detto basta ho deciso in quel momento di abolire la sciattezza e di innamorarmi dalla precisione più luoghi visitavo e più persone incontravo tanto più diventava profonda la mia ammirazione del giappone e dei giapponesi una volta entra in un bar e chiesi un caffè all'americana con due centimetri e mezzo di panna liquida dopo solo dieci secondi da quando l'avevo ordinato tre donne giapponesi si stavano stressando e cercavano di assicurarsi di non commettere il minimo errore nella preparazione del mio caffè nuovamente rimasi sbalordito dalla cura e dalla precisione con cui facevano ogni cosa quattro mesi dopo il mio caro amico nick coachelli mi invitò a san francisco per insegnare al suo team esecutivo presso la walters e wolf avevo deciso di parlare di abolire la sciattezza e innamorarsi della precisione sebbene non avessi mai tenuto questo discorso prima di allora volevo condividere tutto ciò che avevo imparato in giappone prima del mio discorso mi sono fermato in un bar di san francisco per prendere il mio caffè americano con due centimetri e mezzo di panna liquida spiegai in modo preciso e dettagliato quello che volevo anche tracciando una linea sulla tazza per assicurarmi che non ci fossero malintesi diedi le istruzioni al cassiere per ben due volte e lui mi assicurò di aver capito quello che volevo così mi sono messo da una parte ad aspettare quattro minuti dopo è uscito il mio caffè ed era ovviamente sbagliato avevano usato latte al vapore e non la panna liquida ci vollero altri sei minuti e tre persone per farmi dare il caffè che volevo man mano che la coda si allungava iniziai a guardare l'orologio e la mia frustrazione cominciava a crescere nessuno riesce a farlo bene la prima volta in giappone erano ossessionati dall'idea di farlo bene per cui lo fecero bene la prima volta sembra che quasi tutte le altre culture del mondo accettino di rifare le cose come una componente del loro lavoro siamo professionisti nella gestione del caos al contrario i giapponesi sono professionisti nell'esecuzione di processi grandiosi che aboliscono naturalmente la sciatteria vuoi davvero abolire la sciatteria se la risposta è sì è imperativo che allo stesso tempo ti innamori della precisione questa nuova storia d'amore ti darà l'energia e la motivazione per rallentare per pensare profondamente e fare le cose bene in primo luogo devi essere disgustato dalla sciatteria della tua vita secondo devi innamorarti emotivamente intellettualmente della precisione hai notato che non ho detto nulla sul diventare più disciplinato l'inizio di questo nuovo modo di pensare è fondato su una profonda angoscia emotiva e un'esuberanza irrazionale che nascono dall'aver capito bene questo concetto la prima volta unisciti a me in questo fantastico viaggio per abolire la sciattezza e innamorarsi della precisione l'idea chiave sei sciatto capitolo 6 qualità andiamo dritti al punto quello che hanno fatti giapponesi è distillare l'essenza della loro cultura in una parola sola qualità quando si pensa ai migliori marchi di qualità nel mondo la maggior parte di questi sono giapponesi se ci fermiamo a pensarci seriamente il giappone vanta un elenco impressionante di marchi che universalmente richiamano il concetto di qualità che si tratti di toyota lexus honda mitsubishi canon nikon sony panasonic kubota seiko o epson c'è sempre una parola che viene sempre in mente qualità se vuoi qualcosa che sia fatto bene che te lo possa godere a lungo con un servizio clienti impeccabile e non ti dispiace pagare un prezzo leggermente più alto allora puoi anche rivolgerti a un'azienda giapponese perché è esattamente quello che offrono tutti noi umani abbiamo poche verità assolute in comune tra di noi tra queste ne spiccano due primo siamo tutti imperfetti secondo abbiamo tutti un'acuta inclinazione per essere egoisti i giapponesi sono umani proprio come il resto di noi non sono perfetti e hanno commesso molti errori ma dalla fine della seconda guerra mondiale hanno fatto molto più bene che male quando pensi al caos che esiste in così tante culture in tutto il mondo e vedi l'ordine e l'armonia che si possono costantemente osservare in giappone dovresti rimanere senza fiato mi pongo questa domanda rispetto a cosa quale altra cultura ha la scarsità di risorse e risiede su un'isola che è esposta a terremoti tsunami vulcani tifoni inondazioni e gestisce con grazia e attenzione oltre 127 milioni di persone recentemente stavo guardando in tv tucker carlson un commentatore di notizie che ritrasmetteva in diretta dal giappone per il vertice del g20 di osaka carlson è rimasto sbalordito dall'esperienza giapponese così come capita a chiunque vada in giappone tucker carlson dedicò un'ampia parte della trasmissione alla cultura giapponese enfatizzando come tutto in giappone funzioni con un livello di organizzazione assoluta non c'erano senza tetto le strade erano pulite nessun graffiti i treni erano puntuali e le persone civili la società opera a un livello di qualità estrema e sono pienamente d'accordo tucker anch'io la vedo così non dimenticherò mai le parole che disse il presidente donald trump durante il suo primo viaggio in giappone parole che non ho mai sentito dire prima da nessun altro presidente questa straordinaria cultura dovresti essere cieco sordo e muto per non riconoscere che in giappone stia succedendo qualcosa di eccezionale qualche mese fa stavo camminando per la fabbrica tagaji in giappone e ho incontrato una giovane donna che era di origine europea la fermai e le chiesi di dove sei con un distinto accento europeo mi rispose germania nel mio tedesco rudimentale le dissi sehr gut ich war ein student in deutschland che vuol dire io sono stato uno studente in germania mi presentai ed abbiamo avviato una conversazione il suo nome era giulia ed era l'assistente amministrativa del presidente dell'azienda dissi che ero un po sorpreso dal vedere un tedesco a lavoro in un'azienda giapponese infatti i tedeschi sono ben noti per la loro precisione per la loro abilità produttiva le chiesi perché aveva scelto di andare a lavorare in giappone lei ribatte i giapponesi sono così precisi replicai leggermente perpesso ma lo siete anche voi tedeschi a cui ha risposto sì sì capisco ma i giapponesi sono così precisi che riescono a vedere i problemi prima che si verifichino non era solo per il fatto che i giapponesi amano la precisione ma anche e soprattutto perché per loro la precisione è un modo di vedere ed eliminare i problemi prima che sorgano quanto prima trovi i problemi tanto più velocemente la tua qualità migliorerà forse l'ironia di tutto questo è che da bambino ricordo di leggere made in japan dietro a qualsiasi oggetto importato da quello si capiva che si trattava di spazzatura e che molto probabilmente quell'oggetto non sarebbe durato a lungo oggi quelle stesse parole hanno il significato opposto tanto che la parola giappone è un marchio in sé e per sé e quel marchio vuol dire qualità assoluta come ho detto in un capitolo precedente il primo giorno della missione di studio in giappone norman bodek ci aveva trascinati in una sala conferenza e ci aveva chiesto qual è l'essenza del giappone nessuno era riuscito a rispondere correttamente alla domanda perché perché la maggior parte delle persone non si è mai fermata veramente a pensare a cosa abbiano realizzato i giapponesi hanno preso le avversità e i problemi ordinari e li hanno trasformati in qualcosa di straordinario l'essenza di questo libro è il modo in cui ho identificato la mia vita permeata di sciattezza e ho usato il pensiero giapponese per trasformarla elevandola a un nuovo e più alto livello di precisione e qualità l'ho fatto attraverso un'attenta osservazione di questa cultura straordinaria questo nuovo modo di pensare ha influenzato i più piccoli dettagli della mia vita come mi lucido le scarpe come mi lavo i denti come mi rado come indico come gestisco i miei soldi come esco da un bagno pubblico o come do e ricevo un biglietto da visita prima del mio risveglio stato in giapponese il modo in cui facevo queste cose non aveva davvero importanza ora indicando con mano aperta mostro rispetto chiudendo l'acqua mentre mi lavo i denti rispetto le risorse lucidando le mie scarpe apprezzo il modo in cui mi presento mi rado con cura dimostro che non ho fretta se mi tolgo le scarpe prima di entrare in una casa le giro in modo che siano orientate correttamente quando le rimetto così mostro preparazione quel giorno norman impiantò nel mio cervello l'essenza di ciò che il giappone aveva realizzato era un'attenzione particolare verso la qualità due anni dopo giulia mi fece rendere conto che il giappone ha costruito una cultura precisa identificando così i problemi prima che sorgano mi meraviglio di questo concetto perché è così semplice non è un'iniziativa aziendale complessa non sono ore passati in una sala conferenza ad ascoltare qualcuno che continua a blaterare è qualcosa che tutti possono capire riconosci di essere sciatto e abolisci la sciatteria dalla tua vita quasi tutti noi siamo sciatti i nostri armadi il nostro spazio di lavoro il modo con cui rimettiamo le cose a posto la nostra puntualità e la nostra disponibilità a fare le cose più volte siamo sciatti nel modo in cui salutiamo le persone nel modo in cui rispondiamo al telefono nel modo in cui rispondiamo all'email nel modo in cui lasciamo il bagno per la persona successiva nel modo in cui gestiamo le nostre liste di cose da fare quotidiane e come gestiamo la risorsa più preziosa che abbiamo che è il nostro tempo la maggior parte delle persone è disattenta ai piccoli dettagli che portano a rifare le cose o a correggerle questi difetti sono ovunque nella nostra vita e riducono ampiamente la qualità delle nostre vite la cosa incredibile è che la maggior parte di noi non si rende conto minimamente che questo stia accadendo ora vuoi sapere come sbarazzarti della sciatteria innamorati della precisione questo è lo yin e lo yang di questo concetto capire che sei sciatto non è sufficiente per risolvere il problema deve avere la contromisura e questo è amare la precisione innamorati dell'idea di farlo bene e rifiuta l'idea di semplicemente avvicinarti quanto più possibile goditi i piccoli dettagli assapora le sfumature sottili non c'è un punto di arrivo in questa forma di pensiero non basta fermare tutto per fare bene una cosa e poi andare avanti devi fare le cose bene giorno dopo giorno ancora e ancora giungendo sempre più prossimo alla perfezione mentre completi il prodotto e raggiungi i tuoi obiettivi quotidiani questo è quello che i giapponesi chiamano kaizen un processo continuo per diventare sempre più accurato in tutto quello che fai è l'insieme di piccoli miglioramenti e la spinta verso la precisione che kaizen ha creato nella straordinaria cultura giapponese che si tratti di fare un caffè o una vita di precisione con un torneo mazac la precisione ti porterà una vita ricca di qualità la mia azienda ha lavorato con un'azienda giapponese negli ultimi 15 anni e sono assolutamente maniacali per i più piccoli dettagli quando abbiamo evaso il loro primo ordine hanno rifiutato l'intera spedizione ho guardato il prodotto e sembrava tutto perfetto allora gli chiesi ma che cosa c'è che non va per noi era tutto perfetto ma mi risposero che le etichette erano leggermente spostate di 4 mm il resto del mondo era perfettamente soddisfatto delle nostre etichette nessuno poteva rilevare che fossero fuori posto a meno che tu non facessi delle misurazioni tuttavia per i giapponesi questo non era abbastanza importava? non aveva alcun impatto sul prodotto in sé ma era un indicatore del livello di attenzione che prestavamo ad altri potenziali problemi che si presentavano durante la realizzazione del prodotto abbiamo ricevuto il messaggio forte e chiaro e da quel momento in poi abbiamo applicato nuovi standard non solo ai loro ordini ma anche a quelli degli altri clienti la nostra nuova capacità di vedere nei minimi dettagli ha permesso alla nostra azienda di passare a un nuovo livello di qualità maggiore è la precisione applicata a ogni processo maggiori sono le opportunità di coerenza e la qualità ci sono meno errori, meno tempo e impegno costi inferiori, qualità superiore e maggiore fiducia nel processo nel prodotto e nelle persone nel caso delle nostre etichette inizialmente avevamo detto al nostro riparto di confezionamento di posizionare l'etichetta a circa un pollice dalla parte superiore della copertura superiore quando abbiamo ridefinito il processo sulla base degli standard giapponesi abbiamo aggiunto dei simboli sull'etichetta che indicavano il punto preciso in cui doveva essere posizionata quando abbiamo creato una sagoma che ci ha permesso di applicare l'etichetta esattamente alla stessa altezza e distanza ogni volta a quel punto abbiamo applicato al processo quella che in Lean si chiama Pokayoke che è una verifica degli errori quando la confezione è stata esposta sugli scaffali del negozio ogni etichetta era al punto giusto senza sgarrare di mezzo millimetro prima di applicare gli standard di qualità giapponesi sembravamo proprio come tutti gli altri piuttosto bravi se vuoi semplicemente essere simile a tutti gli altri puoi smettere di leggere ora al contrario se vuoi passare al livello successivo questo libro è molto probabilmente quello che stavi cercando di recente quando i dirigenti di uno dei marchi più famosi al mondo è venuto da noi per commissionarci un prodotto sono stati colpiti dalla nostra attenzione ai dettagli simile a quella dei giapponesi mandarono degli esperti per valutare tutti i nostri standard e trovarono solo una cosa da migliorare wow non c'è niente come essere messi dal microscopio da professionisti che cercano di trovare problemi e l'unica cosa che hanno potuto trovare è stata un'etichetta mancante da un estintore inutile dire che abbiamo ottenuto l'accordo e lo abbiamo dovuto tutto alla nostra incessante ricerca di abolire la sciatteria e di innamorarci della precisione molti non sanno che la nascita di una delle più grandi aziende di stampanti al mondo è avvenuta grazie alla ricerca della precisione nel 1964 le olimpiadi si svolsero a tokyo allora c'erano solo enormi stampanti centralizzate e dovevano essere utilizzate persone che correvano letteralmente contro il tempo per portare i tabulati con i risultati nei vari luoghi dove si svolgevano le gare l'ideale sarebbe stato avere le stampanti in ogni luogo dove si gareggiava ma erano troppo grandi e il costo era proibitivo il comitato giapponese che organizzava le olimpiadi allora pensò di risolvere il problema facendo produrre stampanti molto più piccole ed economiche così si rivolsero alla seiko che era nota per i suoi orologi di precisione la seiko non aveva nessuna esperienza nella produzione di stampanti ma misero i loro ingegneri al lavoro e a un certo punto consegnarono il prototipo di una prima micro stampante il successo fu enorme e nacque così la epson l'azienda costola della seiko specializzata in stampanti la precisione non è solo un veicolo per eliminare i problemi è anche un viaggio spaziale verso l'innovazione perseguendo la precisione non solo prospererà l'innovazione ma svilupperai un marchio che il mondo chiedere a gran voce qualità all'ennesima potenza non vi è alcun sostituto alla qualità e poiché l'economia mondiale continua a svilupparsi è naturale che la gente esiga sempre più qualità l'approccio sensato in ogni cosa è di avere la qualità come obiettivo principale e a lungo termine purtroppo però la maggior parte delle persone è sedotta dalle dimensioni e dal profitto ma non io la mia azienda la fast cap ha un giro di affari di decine di milioni di dollari e potrebbe essere molto più grande abbiamo i soldi, le risorse e i mezzi per crescere fino a centinaia di milioni di dollari di affari in breve tempo spesso mi viene chiesto perché non vi state espandendo? la risposta è semplice sono più interessato a un'organizzazione che abbia l'eccellenza operativa come obiettivo principale mi piace il fatto di non essere interessato o sedotto dalle dimensioni, dal profitto o dal riconoscimento quello che voglio è la qualità dalla A alla Z poco tempo fa stavo parlando con un altro imprenditore che aveva venduto quasi 2 milioni di dollari del suo prodotto ed era tentato di quotare in borsa la sua azienda e crescere fino a centinaia di milioni di dollari dopo 5 anni di sforzi ora è sull'orlo della bancarotta e coinvolto in cause legali sento sempre più spesso questo tipo di storie ma no grazie, non io non la FASCAP la sciattezza ci sta derubando di innumerevoli opportunità pertanto la determinazione ad abolire la sciattezza e l'innamorarsi della precisione può diventare una manna per l'innovazione proprio come lo è stata per la Epson capisco che a prima vista questa potrebbe non essere la strategia più ovvia tuttavia per chiunque sia abbastanza intelligente da riconoscere che l'obiettivo finale è la qualità le probabilità di creare un futuro sostenibile saranno notevolmente migliorate l'idea chiave l'obiettivo finale è la qualità capitolo 7 le mie tre cose preferite quando sono in Giappone una delle domande che pongo sia ai giapponesi sia agli stranieri che incontro è qual è la cosa del Giappone che preferisci? la cosa bella è che spesso ricevo risposte che forniscono una visione e una comprensione profonde una delle prime persone a cui feci questa domanda fu Ron, un canadese che vive in Giappone e ha lavorato per la Toyota per più di 18 anni durante uno dei 2 second lean Japan experience Ron presentò una lezione sulla Toyota dopo il suo discorso chiesi a Ron quali erano le sue tre cose preferite della Toyota e le sue tre cose preferite del Giappone mi rispose che in realtà erano la stessa cosa avevo la sensazione che Ron mi avrebbe dato una risposta interessante e degna di riflessione per cui tirai fuori il mio iPhone e registrai quanto mi disse le sue parole furono la prima cosa che preferisco della vita in Giappone è che i giapponesi sono estremamente coscienziosi coscienzioso significa che non solo fai del tuo meglio ma sei consapevole di quali siano gli standard non solo gli standard della tua azienda e delle attività concorrenti ma anche in tutto il mondo continui sempre a cercare di elevarti a quello standard la seconda è che abbiamo una genuina sensibilità per il cliente abbiamo un'espressione omotenashi che significa spirito di ospitalità tutto ciò che facciamo deve rispettare questo spirito di ospitalità la terza è che il Giappone è un luogo meravigliosamente innovativo anche se siamo legati alla tradizione io vivo qui ogni giorno e sento le tradizioni e sono supportato dalle tradizioni allo stesso tempo questa gente ha spazio in qualche parte del loro cuore per innovare quando guardi uno spot pubblicitario in tv una delle espressioni più famose è è un nuovo prodotto è quanto senti dire continuamente quindi una delle grandi cose della Toyota e del Giappone è il modo in cui combinano tradizione e innovazione mentre meditavo sulla risposta di Ron mi sono chiesto cosa c'è di così diverso e unico nel Giappone rispetto a me quanto sono a conoscenza degli standard attuali sia nel mio settore sia nelle aziende concorrenti ancora più rivelatore è quanto sono consapevole degli standard del mio settore in Europa, in Asia e oltre tacitamente certo faccio un tentativo ma se devo essere onesto non sono così aggiornato certo di tanto in tanto vado a fiere per rimanere aggiornato ma questo non è sufficiente per rimanere ai livelli più alti nel mio settore per molti di noi è facile continuare a fare le cose come le abbiamo sempre fatte quando i giapponesi videro sbarcare l'ammiraglio Perry nel 1800 rimasero sballorditi da tutte le armi moderne e dai progressi ingegneristici che portò con sé i giapponesi naturalmente si sentivano come se fossero arretrati devi capire che a quel punto la società giapponese era chiusa non erano interessati all'influenza straniera e hanno deliberatamente chiuso il loro paese e la società dal resto del mondo nonostante ciò sotto la restaurazione Meiji si sono gradualmente spostati verso una società più aperta questo nuovo modo di pensare ha lentamente messo le radici le persone sono diventate gradualmente consapevoli degli standard attuali sia in patria sia all'estero il punto importante è che hanno completamente cambiato il loro modo di pensare la domanda che faccio è siamo disposti a farlo anche noi? un altro elemento che lascia a bocca aperta è stata la loro cultura interamente fondata sull'uomo tenasci omotenashi è quella profonda fierezza e lo sforzo costante nell'accogliere e servire con una cura assoluta gli ospiti con le sue radici nella storia da immemorabile tempo omotenashi è oggi per i giapponesi un'apertura a persone di origini diverse e sostiene l'idea di consapevolezza e coscienza questi due modi di pensare sono un profondo contrasto e cambiamento rispetto al loro pensiero originale sarebbe facile trovare delle scuse tipo oh beh siamo su un'isola nel mezzo del pacifico come potremmo mai stare al passo con il mondo esterno? non è così per i giapponesi il loro nuovo modo di pensare li ha portati a vedere la necessità di migliorare la loro posizione quando il giovane Sakiji Toyoda l'inventore del primo telaio Toyoda visitò una mostra a Tokyo e vide in prima persona come i giapponesi fossero arretrati rispetto al resto del mondo si sentì male quando tornò a casa cominciò ad apportare piccoli miglioramenti al telaio di sua madre per rendere il suo lavoro più facile alla fine dopo centinaia di miglioramenti che i giapponesi chiamano kaizen il telaio si rivelò migliore di quello della ditta inglese Platt Brothers che era il miglior al mondo all'epoca i telai di Sakiji erano così buoni che alla fine vendette il brevetto proprio alla Platt Brothers non molto tempo dopo fondò la Toyota Motor Company in seguito cambiò il nome dell'azienda in Toyota perché non voleva che la società riguardasse la famiglia voleva che fosse un contributo grande e duraturo alla società e al suo paese questo potenziale è a disposizione di chiunque diventi profondamente coscienzioso ti senti male come Sakichi? questo è esattamente come mi sono sentito quando ho viaggiato per la prima volta in Giappone e ho visto la differenza tra gli standard dei miei processi di produzione e quelli loro purtroppo la maggior parte di noi siamo grassi, stupidi e felici la vita è bella, perché dovremmo preoccuparci? perché dovremmo migliorare le cose? il giovane Sakichi ha deciso di fare qualcosa di grande a causa del suo senso di debito e gratitudine verso il suo paese un senso di debito e gratitudine invoca naturalmente questo tipo di pensiero ed è in grado di mantenerlo per generazioni i giapponesi erano consapevoli degli standard della concorrenza sia a livello di attività, sia a livello di nazione e hanno agito di conseguenza non solo hanno raggiunto gli standard attuali ma li hanno elevati e ora sono lo standard di eccellenza per il resto del mondo che si tratti di automobili, acciaio, elettronica, industria presante, robotica o ferrovie ad alta velocità l'idea di essere consapevoli è profondamente diversa dal loro passato isolazionista il loro cambiamento di pensiero li ha avvantaggiati e noi dovremmo fare lo stesso ricordo che quando arrivai in Giappone 19 anni fa e visitai una fabbrica della Toyota mi sentivo come devono essersi sentiti i giapponesi quando videro sbarcare l'ammiraglio Perry con le sue meraviglie tecnologiche mi sentivo come se stessi vivendo su un altro pianeta all'oscuro di cosa fosse la vera produzione grazie a Dio i giapponesi sono entrati nella mia fabbrica e mi hanno rivelato un nuovo standard in quel momento mi resi conto che stavo operando molto al di sotto dello standard attuale la cosa bella è che 19 anni dopo la mia azienda è ora considerata uno standard persone da tutto il mondo visitano la nostra struttura tuttavia ogni volta che lavoro in Giappone sono sballordito da quello che vedo e da quello che imparo un altro aspetto affascinante dei commenti di Ron è che le tradizioni del popolo giapponese non hanno ostacolato o bloccato la loro ricettività piuttosto hanno sostenuto la loro ricettività a nuove idee Ron ha continuato dicendo che hanno spazio nel cuore per innovare i giapponesi sono rinomati innovatori ai massimi livelli in ogni area queste sono le condizioni in cui il concetto di sufficientemente buono non può mettere radici il Giappone è un paese ricco altamente istruito che vanta il più alto tenore di vita al mondo i giapponesi hanno tutto ciò che la maggior parte di noi si sogna e tuttavia non sono mai soddisfatti praticano quello che si chiama in giapponese kaizen quando il generale MacArthur visitò il Giappone dopo la sconfitta nella seconda guerra mondiale paragonò la nazione a un ragazzo di 12 anni forse lo disse in modo sprezzante ma in realtà è un complimento perché la curiosità infantile consente di combattere la calcificazione che possono creare le tradizioni credo sia la capacità di far coesistere la tradizione e l'innovazione idee che spesso sono avverse tra di loro Kelmoji che è uno neuroscienziato professore e autore di più di 100 libri nonché celebrità televisiva giapponese ha detto noi giapponesi siamo maestri nel tenere e bilanciare due idee opposte allo stesso tempo ad esempio c'è armonia e diversità nella cultura giapponese c'è una grande armonia ma in realtà c'è una grande diversità tra ogni individuo a prima vista la cultura giapponese sembra molto monolitica tutti guardano e agiscono allo stesso modo ma in realtà non è così ad esempio nel loro sistema religioso dello scintoismo credono in migliaia di divinità diverse e tuttavia non ci sono né rivolte né combattimenti tra di loro tutti sembrano andare d'accordo tra tutti i diversi sistemi di credenze mantengono una disposizione armoniosa sebbene la credenza in una moltitudine di dei possa generare una società incongrua in realtà è armoniosa questa armonia è basata sulla tradizione che supporta la diversità di credenze e opinioni è quella singolare capacità di mantenere una società armoniosa che allo stesso tempo consente l'innovazione e l'apertura a nuove idee figuriamoci armonia nella diversità coscienziosità è una parola molto interessante è definita come il tratto della personalità dell'essere attenti o diligenti se ci pensi è esattamente l'opposto della sciattezza essere coscienti significa essere consapevoli di ciò che ci circonda se noti bene questa parola esige una risposta non c'è nulla di passivo o di lasciar fare nell'essere coscienti tutti dovremmo aspirare a questo cerco di avvicinarmi a tutto ciò che faccio con la coscienziosità giapponese mentre giorno dopo giorno può essere difficile vedere un cambiamento apprezzabile quando guardo i miei progressi nel corso degli anni i miglioramenti sono mozzafiato credo che una delle chiavi sia avvicinarsi a questa nuova coscienziosità con un senso del dovere verso il nostro paese la società e la famiglia con lo stesso spirito del giovane Sakichi Toyoda quando Sakichi si rese conto che il Giappone era in ritardo ciò portò a una continua innovazione il che portò poi Sakichi a diventare un leader nel settore essere coscienziosi è naturale per i giapponesi non si sentono appagati per i successi passati ma piuttosto si sentono in debito cosa credi? sei abbastanza bravo? sei aperto all'idea di non essere il migliore? questo è esattamente quello che mi è successo quando sono andato in Giappone l'apertura genera nuove idee che portano poi a nuove innovazioni sei disposto a essere più consapevole e coscienzioso? quando sono diventato più coscienzioso e consapevole di quale fosse il nuovo standard la mia vita è cambiata in meglio ho imparato a non essere mai soddisfatto e cerco costantemente di migliorare ogni cosa questo nuovo modo di pensare ha arricchito la mia vita sotto ogni aspetto all'inizio di questo libro ho detto che il motivo per cui l'ho scritto era per poter capire più a fondo il modo in cui i giapponesi vivono quelle parole preziosi di Ron che ho riportato all'inizio di questo capitolo mi hanno trasformato e possono trasformare chiunque sia disposto ad ascoltarle e a metterle in pratica l'idea chiave sei abbastanza consapevole da essere consapevole di essere arretrato? capitolo 8 coordinazione nel corso della mia sesta missione di studio in Giappone uno degli oratori era il dottor Fujimoto dell'Università di Tokyo mi sedetti in prima fila perché è lì che si siedono tutti gli studenti migliori fu un discorso molto cerebrale in cui ci ha fatto immergere nella comprensione della cultura giapponese e di ciò che la fa funzionare senza alcun dubbio i giapponesi sono consapevoli di essere una cultura atipica e particolare tra tutte le altre del mondo una cosa che li caratterizza è la loro grande umiltà un altro aspetto è che la loro è una società altamente coordinata mentre il dottor Fujimoto teneva la sua lezione mi è passato in mente un video di tutte le disfunzioni che ho visto in tanti altri paesi che avevo visitato nei miei viaggi attorno al mondo quando ho osservato migliaia di persone attraverso la stazione di Tokyo e nessuno spingeva o spintonava o tagliava bruscamente avanti a un'altra persona sono rimasto letteralmente sbalordito di recente un treno è partito a 25 secondi prima dell'orario previsto e l'annunciatore si è scusato pubblicamente per la loro sciatteria nel frattempo in tutto il mondo aerei, treni e autobus partono regolarmente in ritardo senza che nessuno presti molta attenzione per illustrare ulteriormente quanto siamo tutti quanti sciatti la storia delle scuse del treno è stata riportata erroneamente la maggior parte dei riferimenti online indicavano che il treno partito in anticipo era uno Shinkansen il famoso treno ad alta velocità in realtà era semplicemente un treno espresso quando salgo su una scala mobile giapponese indipendentemente da quante migliaia di persone ci siano tutti stanno sempre sul lato sinistro in modo che le persone che hanno fretta possano passare facilmente sulla destra all'osservatore esterno questo sembrerà quasi robotico ma per chi capisce come pensano i giapponesi questa è massima coordinazione i giapponesi sono consapevoli che è meglio cooperare anziché competere penso che l'idea di competere per molti aspetti sia un istinto naturale di ogni essere umano al contrario l'idea di cooperazione è un modo elevato di vivere la vita cooperazione e coordinamento richiedono ponderazione e una profonda elaborazione intellettuale potresti dire che la competizione produce gli stessi risultati e su questo sarei d'accordo con te la differenza è che la coordinazione richiede più sottigliezza del semplice schiacciare o dominare il tuo avversario quando vedi la coordinazione nella natura è sorprendente quando le orche assassine lavorano tutte insieme per riunire i pesci in un cerchio usano la coordinazione e la cooperazione tutte le balene girano contemporaneamente e creano una gabbia di bolle quando i pesci sono sufficientemente ingabbiati dalle bolle tutte le balene partecipano al banchetto l'intera cultura giapponese partecipa alla festa dell'ordine e dell'efficienza e poiché lavorano insieme godono dei vantaggi di essere una società coordinata la cosa bella della coordinazione nel contesto della cooperazione è la scalabilità non importa quanto sia grande la crescita i risultati sono sostenibili diamo un'occhiata a tre definizioni di coordinazione 1. l'organizzazione dei diversi elementi di un'entità o attività complessa in modo da consentire loro di lavorare insieme efficacemente più di 120 milioni di persone in Giappone in teoria potrebbero essere un'entità complessa e difficile da organizzare pensa a tutte le scuse che inventiamo per cui non possiamo creare un'organizzazione altamente coordinata abbiamo lingue diverse, culture diverse, le nostre aziende sono troppo grandi e così via sono sicuro che i giapponesi riderebbero di fronte a queste scuse quello che gestiscono in Giappone dal sistema del treno proiettile alle fabbriche dei fornitori della Toyota di primo e secondo livello è a dir poco muzzafriato 2. la capacità di utilizzare insieme diverse parti del corpo in modo fluido ed efficiente questa è una delle cose che mi ha ispirato ad abbracciare il Toyota Production System volevo che la mia azienda funzionasse senza intoppi e ho visto la soluzione nella coordinazione sviluppata dalla TPS in effetti ho superato di gran lunga tutte le mie aspettative non solo perché ha creato una coordinazione totale ma mi ha anche permesso di costruire una cultura dinamica di persone pensanti il Giappone è esattamente questo una società di persone pensanti 3. il passaggio dalla posizione di un piede a un altro richiede coordinazione ed equilibrio senza dubbio ciò che distingue le organizzazioni di successo da tutte le altre è l'agilità cioè la capacità di cambiare al variare delle condizioni di mercato i giapponesi sono giganti della produzione grazie alla loro capacità di cambiare prendiamo la Lexus per esempio la Toyota che produceva auto per una fascia di mercato media a un certo punto decise di penetrare il mercato di lusso che era dominato da titani come la Mercedes e la BMW perciò costituirono la Lexus seguendo i principi di argilità e coordinazione basandosi sull'esperienza del Toyota Production System così la Toyota creò uno dei marchi di lusso più potenti al mondo io che ero sempre stato un cliente fedele della Mercedes Benz e di cui ne avevo posseduto i tre ma mi ero stancato di portare all'officina a un certo punto ho comprato una Lexus e da allora non ho più guardato indietro tra gli innumerevoli esempi di coordinazione giapponese il mio preferito è il sistema Kanban sviluppato da Taichi Ono alla Toyota Kanban significa semplicemente segnale consideralo come un segnale di stop può essere una luce rossa, gialla, verde o qualsiasi cosa che ti dia informazioni su che cosa fare dopo se stai guidando lungo la strada e vedi un cartello con la scritta Nagoya Route 55 che è praticamente un'autostrada quello è un Kanban l'idea rivoluzionaria di Ono è stato di prendere la semplicità di un cartoncino o di un segnale per creare questo sistema Kanban quella scheda cartacea è praticamente allegata e viaggia con tutti quanti i materiali associati ai prodotti Toyota la scheda Kanban coordina la domanda del cliente la domanda della linea di produzione della Toyota e di tutti quanti i suoi fornitori al contrario la maggior parte di noi produce troppo e alla fine ha un eccesso di inventario il che aumenta i costi in tempo, risorse e denaro l'idea di coordinare tutti questi sistemi e persone in modo da ottenere esattamente cosa di cui hai bisogno esattamente quando ne hai bisogno né più né meno è solo un esercizio mentale troppo scoraggiante per la maggior parte di noi ancora peggio ci affidiamo quasi totalmente a intericati software di ERP di pianificazione di risorse d'impresa che solo poche persone riescono a capire davvero la bellezza di ciò che ha fatto la Toyota sta nella semplicità e nell'eleganza del coordinamento per Toyota e per la cultura giapponese in generale questo tipo di esercizio mentale è come fare stretching ogni mattina e poi bere una tazza di tè o caffè è una componente della loro vita che sembrano apprezzare appieno pensa a quello che ha fatto Ono ha preso tutti gli elementi chiave delle tre definizioni di coordinamento e li ha implementati magistralmente con il sistema Kanban ha preso la produzione incredibilmente complessa di oltre 40.000 parti da migliaia di fornitori in tutto il mondo e le ha fatte funzionare insieme in armonia consentendo allo stesso tempo che si adattassero con precisione alle richieste del cliente tutto ciò ha creato un sistema accessibile al 100% a chiunque lavori all'interno del Toyota Production System niente è nascosto tutto è visibile e comprensibile adoro l'idea della coordinazione adoro il modo in cui si fanno le cose in Giappone voglio la coordinazione in ogni aspetto della mia vita e passo dopo passo pratico il pensiero profondo per ottenere questa coordinazione l'idea chiave la vita in Giappone è facile capitolo 9 grandi occhi e grandi orecchie se osservi la costituzione fisica del giapponese medio non diresti mai che è nato con occhi e orecchie grandi di solito sono considerate persone di piccole dimensioni il giapponese medio è più piccolo e 20 kg più leggero della persona media degli Stati Uniti se entri in un negozio di abbigliamento giapponese è difficile che trovi una taglia XL o XXL è quasi impossibile trovare scarpe di numero 45 o più grandi una volta ho dovuto percorrere più di 160 km da Nagoya a Osaka per trovare un paio di scarpe numero 46 ho ancora quelle scarpe e le adoro perché erano così difficili da trovare in effetti sono diventate una delle mie scarpe preferite e le ho praticamente consumate in passato le avrei semplicemente regalate o buttate ma a causa del pensiero Mottinai di cui tratterò in dettaglio nell'ultimo capitolo di questo libro le ho fatte risuolare e riportare a nuovo e ancora oggi le indosso il modo di pensare giapponese mi ha proprio cambiato sembra che tutto in giappone sia più piccolo macchine minuscole, camere d'albergo minuscole porzioni di cibo minuscole tuttavia c'è un'eccezione la cosa grande che i giapponesi hanno sono gli occhi e le orecchie in giapponese si chiama Oki-me occhi grandi e Oki-mimi grandi orecchie qualcuno mi ha detto che il giapponese medio può vedere con un altissimo livello di dettaglio un giorno mentre stavo facendo una visita di preparazione del tour in una fabbrica mi ero tolto le scarpe e mi ero messo le pantofole per poter entrare nell'ufficio mentre tornavamo dall'ufficio all'ascensore per scendere nell'atrio la ragazza che stava guidando il tour mi ha guardato i piedi e ha detto Paul San, perché indossi due calzini di colore diverso? guardai in basso e con mia sorpresa a un esame accurato notai che uno dei miei calzini era nero e l'altro era blu notte ovviamente quella mattina avevo prestato poca attenzione al colore dei calzini dopo averli lavati e li avevo indossati spagliati tuttavia quando lei li ha osservati nell'ascensore è riuscita a vedere la differenza ti assicuro la maggior parte delle persone non avrebbe notato la differenza tra i due colori perché era quasi impercettibile ma la maggior parte dei giapponesi riesce a vedere le cose con livelli di dettaglio elevatissimi questo non perché hanno occhi speciali ma perché sin da piccoli sono addestrati a osservare le cose con estrema attenzione ai dettagli nella lingua giapponese le parole contano molto il modo in cui ti rivolgi a una persona anziana o a una persona più giovane è completamente diverso e credimi se lo fai male si potrebbe creare una situazione alquanto scomoda come regola generale i giapponesi possono vedere e sentire cose che la maggior parte di noi ignorerebbe mentre conduco i miei tour in giappone una delle prime cose che dico alle persone quando salgono sull'autobus è che devono avere occhi e orecchie grandi infatti in giappone ci sono innumerevoli meravigliose sottigliezze da osservare e apprezzare uno dei miei preferiti è il garage verticale la maggior parte delle persone non lo noterebbe mai ma sono ovunque nelle grandi città entri con l'auto in un vano della dimensione di un veicolo e la lasci lì una piattaforma ingirevole posiziona la tua auto correttamente e la porta in un piano superiore tutto è completamente automatizzato e la tua auto è parcheggiata in modo sicuro in un parcheggio a 20 piani con la semplice pressione di un pulsante le stazioni di servizio hanno chiare segnaletiche orizzontali che ti indicano il tipo di carburante spesso gli erogatori del carburante sono sospesi in alto in modo che non importi se il portello del serbatoio sia a destra o a sinistra della tua auto nelle autostrade quando arrivi al casello devi rallentare solo un po' perché tutto è digitale il pagamento è automatico con carta di credito collegata alla targa dell'auto il cancello si alza in un millisecondo mentre lo attraversi quando il tuo aereo lascia il parcheggio tutto il personale di terra saluta e si inchina verso l'aereo quando visiti un parco o guidi per una strada in un quartiere residenziale non è raro vedere il proprietario della casa o un giardiniere in ginocchio raccogliere minuscole erbacce che sono quasi impercettibili per la maggior parte di noi nelle fabbriche ci sono musiche che servono come segnali ognuna diversa per annunciare pause, pranzi, problemi imminenti o per annunciare la ripresa della catena di montaggio nella maggior parte delle aziende ogni mattina c'è una riunione mattutina in cui tutti fanno stretching per prepararsi e ridurre gli infortuni questa stessa routine di stretching è quasi identica in ogni azienda e in ogni parte del Giappone e se vai in una scuola elementare la mattina vedrai i bambini eseguire la stessa routine di stretching che fanno gli operai di un cantiere che sta costruendo un ponte da 100 milioni di dollari quando compri sashimi o sushi da portare via non è raro che il cassiere ti prepari un sacchetto di ghiaccio in modo che il cibo rimanga fresco mentre torni a casa oserei dire che mentre visiti il Giappone se lo fai con grandi occhi e grandi orecchie troverai centinaia di esempi ogni giorno le sottigliezze e le sfumature di questa cultura sono veramente sbalorditive durante la 2 Second Lean Japan Experience dico ai partecipanti di godersi l'esperienza in Giappone perché vedranno cose che non vedranno in nessun'altra cultura è letteralmente come una caccia al tesoro 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 una volta ho scalato il monte Fuji e mentre stavo compilando il permesso per la salita il ranger del parco mi chiese il gruppo sanguigno io lo guardei e pensai ma è matto io non conosco il mio gruppo sanguigno e nessuno me lo ha mai chiesto prima ma in caso di emergenza i giapponesi vogliono essere completamente preparati in modo da poterti trattare in modo efficiente e efficace e per bacco pensano davvero a tutto un'altra volta stavo viaggiando da Nagoya a Tokyo su un treno Shinkansen e avevo incrociato le gambe e la punta della mia scarpa sfiorava lo schienale del sedile di fronte al mio un uomo dall'altra parte del corridoio lo vide e mi fece cenno di non toccare il sedile con la scarpa ma chi noterebbe qualcosa di simile? solo uno con grandi occhi e grandi orecchie in Giappone i dettagli contano molto più di quanto potresti mai immaginare se ti alleni a vedere le cose più piccole vedrai le cose più grandi se diventi sensibile alle parole che usi la tua vita potrebbe scorrere un po' più tranquilla quando parli non c'è bisogno di usare una mitragliatrice di parole quando un singolo colpo, adeguatamente mirato, potrebbe avere il massimo effetto il popolo giapponese gestisce la complessità con grande sagacia che è una combinazione di saggezza, abilità e coscienziosità durante uno dei viaggi in studio in Giappone con noi c'era Rizuo Shingo ex presidente di Toyota in Cina e figlio di Shigeo Shingo io stavo ottenendo un discorso sul Giappone simile a quello che sto scrivendo ora e lui mi corresse dicendo Paul-san, c'è ancora una cosa bisogna avere grandi occhi, grandi orecchie e una bocca piccola a volte passiamo così tanto tempo a parlare che ci manca completamente l'arde di ascoltare e di vedere sono sicuro che il famoso cerchio di Taichi Ono si fonda sul concetto di avere occhi grandi, orecchie grandi e la bocca piccola Ono disegnava un cerchio di un metro di diametro vicino a una cella di produzione e istruiva i suoi manager a stare lì per ore e guardare e vedere, senza dire nulla l'obiettivo era di comprendere appieno cosa stava realmente accadendo questa attività affina la tua capacità di osservazione e ti costringe a usare tutti i tuoi sensi potrei raccontarvi centinaia di altre cose insolite da vedere ed apprezzare in Giappone ma non lo faccio perché? perché voglio che proviate la gioia di scoprire le bellissime sfumature di questa meravigliosa cultura se sei abbastanza fortunato da visitare il Giappone usa occhi grandi e orecchie grandi e una bocca piccola e goditi il viaggio l'idea chiave occhi me occhi grandi occhi mini orecchie grandi cesai kuchi bocca piccola capitolo 10 i grandi gemelli mi sono fermato spesso e a lungo a riflettere sull'unicità della cultura giapponese perché fanno le cose che fanno? perché sono così coerenti nelle cose che fanno? come sostengono le cose che fanno di generazione in generazione? credo che i fattori determinanti siano due in primo luogo la cultura giapponese ha un profondo rispetto per le persone secondo i giapponesi hanno un profondo rispetto per le risorse questi due elementi li chiamo i grandi gemelli il rispetto per le persone e le risorse è come i fili d'oro in un arazzo di mille anni fa sono intrecciati in questa cultura ed è impossibile non vedere il loro impatto nessuno ha la precedenza sull'altro sono in perfetto equilibrio e armonia e generano potenza e profonda influenza il rispetto è sempre presente ovunque quando cammini in un grande magazzino i dipendenti si inchinano verso di te quando entri in una casa o in un'azienda ti togli le scarpe il rispetto è presente in quasi tutto ciò che accade in Giappone quando il treno arriva in orario mostra il rispetto per il cliente hai mai sentito parlare del miracolo dei sette minuti? il treno ad alta velocità Shinkansen di cui ho parlato prima in varie occasioni entra in stazione e in sette minuti viene pulito meticolosamente il signor Yabe, il dirigente che ha sviluppato e implementato questo sistema di pulizie è un oratore nelle mie missioni di studio in Giappone uno dei modi con cui ha convinto i lavoratori a fare un lavoro così straordinario nella pulizia di questi treni è stato trasmettendo loro l'estremo onore di essere associati a questa icona giapponese la filosofia centrale che il signor Yabe insegna alle settecento persone che puliscono lo Shinkansen è il rispetto rispetto per il cliente rispetto per l'innovazione giapponese rispetto per la preservazione degli elevati standard di puntualità e di pulizia giapponesi è importante capire che il signor Yabe ha ottenuto questo risultato con dipendenti i cui lavori sono spesso considerati umili il signor Yabe ha compreso l'importanza di portare dignità e rispetto in tutti gli aspetti del loro lavoro ha deciso di elevare lo status di una persona delle pulizie a quello di una celebrità Yabe ha realizzato questo in un modo spettacolare come segue in primo luogo ha detto ai lavoratori che si stavano occupando non solo di un treno ma dello Shinkansen, un'icona nazionale secondo ha incoraggiato i lavoratori a trovare modi creativi affinché rendessero il lavoro più efficiente e piacevole attraverso kaizen quotidiani e riunioni di gruppo terzo ha permesso ai lavoratori di abbandonare gli arbitri da lavoro che tradizionalmente indossavano le persone delle pulizie per poi vestirsi con costumi stagionali questo ha reso la pulizia del treno come fosse un teatro persone da tutto il mondo, inclusi capi di stato vanno alla stazione di Tokyo solo per vedere la straordinaria esibizione della squadra di pulizia dello Shinkansen quarto ha convinto la stampa a coprire l'eccezionale prestazione dei lavoratori ora la compagnia di pulizia degli Shinkansen è conosciuta come il miracolo dei sette minuti e viene celebrata su riviste, giornali e telegiornali addirittura è stato anche fatto un musical il rispetto si nota anche nel modo in cui i giapponesi puliscono i bagni quando si entra in un bagno pubblico è normale trovarlo pulito per poi lasciarlo pulito utilizzare le risorse senza curarsene con disivoltura sarebbe sciatto per i giapponesi infatti usano le loro risorse con grande coscienziosità e mostrano rispetto e gratitudine mi sono reso conto che i grandi gemelli possono trasformare le nostre menti se ci rendiamo pienamente conto della semplicità e dell'eleganza di questi principi il mio ikigai che in giapponese vuol dire ragione d'essere è trattare le persone che mi servono con un rispetto profondo che si tratti di un cameriere, di un tassista, un assistente di volo o una governante di un hotel mi sforzo di trattarli con profondo rispetto e onore faccio di tutto per riconoscere il loro duro lavoro e per assicurarmi che sappiano che i loro sforzi sono apprezzati dico per favore e dico grazie gli dico che sono fantastici e gli sorrido ho imparato il principio della mancia abbondante e inaspettata dal presidente Donald Trump non è raro per me dare mance di 100 dollari questo sempre nel contesto della dimostrazione di un profondo apprezzamento e rispetto per il loro duro lavoro penso anche seriamente a come utilizzo le risorse quando sono in albergo non uso più saponette di quanto sia necessario in questo modo rispetto alla persona che ha prodotto il sapone la persona che ha trasportato il sapone e chi l'ha immagazzinato rispetto anche la risorsa sottratta alla terra e l'impatto che avrà sull'ambiente per buttarla via inutilmente l'armonia e l'unzione che possono essere generate nella vita di una persona sono incommensurabili uso questa parola unzione che è usata principalmente in un contesto religioso che significa avere potere impartito da Dio questo è esattamente ciò che sto cercando di trasmettere c'è un elemento spirituale nell'avere un profondo rispetto per le persone e per le risorse e io credo che questo ci ricolleghi alla creazione i principi dei grandi gemelli sono in grado di produrre potenza comprensione e armonia senza precedenti quando questi due concetti sono all'opera cambiano le vite hanno un impatto sulle decisioni e hanno effetto su ogni calcolo neurale quando c'è tensione e scarsa comunicazione tra i membri di una squadra spesso è a causa di una mancanza di fiducia e di rispetto la cultura giapponese è molto affidabile quindi c'è fiducia in abbondanza con la fiducia arriva il rispetto la coerenza genera fiducia e dalla fiducia emerge il rispetto sei rispettato dai tuoi compagni di lavoro? dovresti fare un inventario onesto della tua coerenza se andiamo ad approfondire ulteriormente la mancanza di rispetto può essere il risultato della mancanza di istruzione illuminazione e premura quando vedo un'organizzazione in difficoltà nella maggior parte dei casi la causa è una scarsa compressione dei principi del profondo rispetto per le persone e le risorse quando vedo gente che si alza dalla tavola e lascia il 30% del cibo non consumato nel piatto vedo mancanza di rispetto per le persone e per le risorse se consideriamo seriamente il tempo necessario per piantare il raccolto per nutrire il raccolto per raccoglierlo elaborarlo imballarlo e trasportarlo non lo getteremo mai casualmente nella spazzatura in ogni scuola giapponese che sia privata o pubblica prima di mangiare i bambini dicono una preghiera di ringraziamento che si chiama che vuol dire ricevo umilmente l'itada kimasu è dato per il cibo e il sacrificio delle piante e degli animali in modo che possono avere nutrimento esprime gratitudine per l'agricoltore e per chiunque ha lavorato affinché il cibo fosse disponibile sulle loro tavole in molti ristoranti quando ti avvicini alla fine del buffet c'è una foto del contadino che ha coltivato quello che stai per mangiare immagini simili possono essere viste nel negozio di alimentari quando insegni la gratitudine fin dalla tenera realtà per le cose più semplici il filo d'oro del rispetto può essere facilmente intessuto in tutta la cultura inoltre prima di ogni pasto i bambini identificano il nutrimento che gli verrà loro fornito dal cibo che stanno per mangiare è facile capire perché ci sia un profondo rispetto per il cibo che ogni giorno viene loro messo davanti quando ci sono centinaia di bambini nella mensa e non c'è alcun cibo sprecato neanche un chicco di riso questo si può facilmente ricondurre al rispetto per le persone e per le risorse ho trovato ancora più facile abbracciare i due gemelli perché hanno una profonda congruenza con la mia fede nella tradizione giudaico-cristiana ci viene ordinato di fare due cose molto importanti primo ama il tuo prossimo come te stresso in marco 12-31 questo comandamento ha migliaia di anni e dimostra molto chiaramente l'importanza del rispetto secondo dobbiamo essere buoni amministratori dei doni che ci sono stati dati questi valori sono veri oggi come quando ci fono rodati la prima volta ci sono alcune cose che sono inamovibili ma il rispetto per le persone e per le risorse ci mette in grado di dividere il mare e rende la vita più facile e più piacevole mi ricorda uno dei miei libri preferiti di tutti i tempi come trattare gli altri e farseli amici è evidente che Dale Carnegie comprendeva l'importanza di rispettare gli altri fammi raccontare un esempio personale ho un vicino difficile qualche settimana fa mi aveva telefonato ma non gli avevo risposto allora ha cominciato a inviarmi messaggi a chiamarmi ripetutamente ma non ho mai risposto al telefono né ai suoi messaggi avevo deciso di non rispondere perché ogni volta mi rimprovera di conseguenza il rapporto tra di noi si è deteriorato siccome non l'ho rispettato ha deciso di rimuovere due etosa erba robotizzati che usavo per i cinque acri del suo giardino che si trova dall'altro lato della strada davanti a casa mia la mia mancanza di rispetto per lui ha fatto sì che il giardino dall'altra parte della strada della mia bella casa diventasse incolto inutile dire che mia moglie non era molto contenta di questo ogni mattina ogni sera quando andava e tornava dal lavoro vedeva che davanti a casa nostra stava crescendo una giungla fuori controllo avevamo speso molto tempo e denaro affinché quel paesaggio fosse curato e ora stava diventando invaso dalle erbacce ora mia moglie stava cominciando a perdere il rispetto per me tutto stava andando fuori controllo vedi come il rispetto sia un elemento così critico nel nostro modo di navigare la vita grazie a dio mia moglie è più brava di me a ricucire le relazioni chiamo il nostro vicino ed è riuscito a riportare le cose alla normalità ora i toesa erba sono lì e il prato è di nuovo ben curato la mia mancanza di rispetto aveva creato il caos e il rispetto ha riportato l'ordine è importante notare l'enorme quantità di tempo sprecato la fatica e gli altri effetti negativi che si erano verificati a causa della mancanza di rispetto quando non conduciamo le cose con rispetto finiamo solo col punirci da soli con una tassa sulla stupidità ho imparato questo concetto di tassa sulla stupidità nel libro The Road Less Stupid la via meno stupida di Keith Cunningham che non è tradotto in italiano è un dato di fatto che mi stavo punendo con una tassa sulla stupidità a casa della mia mancanza di rispetto per il mio prossimo la cultura giapponese non è stata punita dalla tassa sulla stupidità quanto le altre culture grazie a loro profondo rispetto per le persone e per le risorse c'è un'alta concentrazione di persone in una piccola area e riescono a far funzionare tutto quanto ad altissimi livelli una volta quando stavo parlando alla camera di commercio degli Stati Uniti a Nagoya ho chiesto al pubblico quanto gli piaceva vivere in Giappone non dimenticherò mai la risposta di un signore mi piace come nessun crimine niente graffiti nessun senza tetto le persone sono istruite premurose ed educate tutto funziona è proprio semplice un'altra volta in cui ero in una fabbrica ho incontrato una signora che si era trasferita in Giappone dalle Filippine le chiese se le piaceva vivere in Giappone mi rispose è un bel paese ho un buon lavoro ed è molto stabile i giapponesi sono molto bravi negli affari i miei capi sono molto rispettosi e siamo tutti allo stesso livello tutti lavorano come in una squadra anche il cibo è delizioso ogni volta che faccio la stessa domanda a persone immigrate dal Vietnam Brasile Filippine Malesia e molti altri paesi tutti mi rispondono allo stesso modo il Giappone è un paese dove gli immigrati si sentono profondamente rispettati una cosa particolarmente difficile da comprendere è il fatto che i presidenti e altri leader in molte aziende indossino la stessa uniforme dei lavoratori e lavorano fianco a fianco con loro questo trasmette inequivocabilmente rispetto per il lavoratore e rispetto per il lavoro che viene svolto i leader stanno dimostrando che il lavoro in officina è il lavoro più importante agiscono con grande sacaccia nel modo in cui gestiscono l'attività qual è l'origine di questa sagaccia che è una combinazione di saggezza abilità e coscienziosità anche se non ho tutte le risposte penso di averne alcune quando chiedo ai vari leader giapponesi perché fanno quello che fanno spesso sento dire perché siamo su una nazione insulare abbiamo il pensiero isolano i giapponesi vivono su una piccola isola sanno che si rivedranno tra di loro quindi è buon senso trattarsi con rispetto potresti dire che capiscono che è nel loro migliore interesse si potrebbe anche dire che è egoistico ma per me è semplicemente un vecchio buon senso sfortunatamente in molte culture l'ego ha sovvertito il buon senso molti di noi prendono le proprie decisioni in base alle emozioni anziché affidarsi a un pensiero critico a lungo termine per i giapponesi il pensiero critico è essenziale per sopravvivere su una piccola isola con oltre 127 milioni di persone poiché hanno risorse naturali limitate sono costretti a pensare in modo diverso per la maggior parte tutto ciò di cui hanno bisogno deve essere importato se non sono attenti a come usano le loro risorse le conseguenze possono essere catastrofiche al contrario se trattano con rispetto e cura le loro risorse i giapponesi sono in grado di mitigare in modo abbastanza efficace il costo della vita e del fare affari una volta ho chiesto a un contadino dell'isola di Hokkaido perché i giapponesi siano così premurosi lui si chinò prese due pietre le sollevò e disse tutto ciò che abbiamo sono rocce per cui dobbiamo usare il nostro cervello bandisci la sciatteria e innamorati della precisione la comprensione della potenza di questo concetto conviene a tutti quanti noi se stai passando un momento della tua vita in cui sei sconcertato perché le cose non stanno andando bene come desideri forse dovresti valutare quali sia il tuo livello di rispetto per le persone e per le risorse molti mi diranno che sono cresciuti con quei valori so esattamente di cosa stiano parlando e sono d'accordo anch'io sono cresciuto con quei valori ma non sto parlando di individui sto parlando di un'intera società che la pensa in questo modo ed è questo che rende la cultura giapponese unica una cosa è per un individuo pensare in questo modo ma un'altra cosa è per un'organizzazione pensare in questo modo è assolutamente incredibile un'intera cultura di oltre 127 milioni di persone che pensano in modo coerente con i grandi gemelli è qualcosa che tutti noi dovremmo rispettare teniamo anche presente che i giapponesi hanno un profondo rispetto per le persone e le risorse anche in presenza dell'abbondanza il giappone è al momento uno dei paesi più ricchi al mondo e ancora trattano le risorse e le persone con un profondo rispetto è come se avessero creato una mentalità di scarsità in presenza di una vita rigogliosa l'idea chiave un profondo rispetto per le persone e le risorse capitolo 11 solo i giapponesi una volta i nostri amici dal giappone Tadahiro e Susan Kawada sono venuti a trovarci a casa nostra a Bellingham la mattina presto mi ha chiamato al telefono Susan dicendomi che era bloccata nel bagno e non poteva aprire la porta non avevamo mai avuto questo problema prima ma avevo intuito che probabilmente non stava aprendo la porta con abbastanza forza andai subito a salvarla dal bagno della casa degli ospiti afferrai la maniglia e la porta si aprì tra le nostre risate come ho detto non c'era nulla di sbagliato nella porta ma ho realizzato che a volte la maniglia richiedeva un pochino più forza del normale durante la colazione mentre rideva della situazione Susan ci trasmise un principio che aveva insegnato ai suoi due figli non forzare mai nulla se qualcosa non ti sembra giusto fermati e pensaci quel lieve difetto nella maniglia della porta indicava che c'era qualcosa che non andava e offriva l'opportunità di risolvere il problema tuttavia ci voleva qualcuno con una sensibilità acuta per realizzarlo da allora ho cominciato a chiedere a ogni ospite di dirmi almeno una cosa da migliorare per rendere il loro soggiorno più piacevole da allora ho apportato innumerevoli miglioramenti molti dei quali sono molto sottili di recente abbiamo aggiunto del nastro antiscivolo alla scala della nostra casa sull'albero per impedire agli ospiti di scivolare quando salgono e scendolo ho anche aggiunto un sedile sospeso al muro dell'ingresso per consentire a chi entra di togliersi le scarpe prima di entrare ho aggiunto un gancio appena fuori dalla dolcia per appendere l'accappatoio e uno aggiuntivo vicino al letto per appenderlo quando si va a dormire sul comodino della camera da letto degli ospiti ho messo un telecomando speciale per accendere e spegnere la luce dal letto questi piccoli miglioramenti rendono più accogliente la permanenza dei nostri ospiti Tanahiro ci ha fatto notare che il tappo del lavandino non era regolato correttamente per cui quando si stava rasando non poteva riempire d'acqua il lavandino e invece ha dovuto lasciare scorrere il rubinetto questo è molto giapponese il non volere sprecare nulla perciò lo riparai riportandolo così alla piena efficienza operativa e senza che causasse più sprechi quando Susan e Tanahiro hanno visitato la FASCAP hanno scoperto molte piccole opportunità di miglioramento cose che la maggior parte dei visitatori non avrebbe mai notato Susan ha identificato che alcuni oggetti non erano localizzati tramite GPS che è un sistema di nastri colorati e di visualizzazioni che permettono di rimettere gli oggetti al loro posto insomma Susan aveva identificato che alcuni di questi oggetti non erano localizzati tramite questo GPS anche se i processi erano chiari e documentati ha anche notato che il nostro processo di pulizia del bagno era un po' arretrato e doveva essere migliorato per cui abbiamo immediatamente girato un nuovo video di formazione didattica per correggere i nostri errori le sottili differenze contano e portano all'eccellenza in tutto ciò che fai in Giappone se entri in un grande magazzino in una giornata piovosa quando entri nei negozi ci sono dispositivi intelligenti che fanno scivolare una copertura di plastica sull'ombrello questo evita che i pavimenti si bagnino e riduce il pericolo di scivolamento per la maggior parte delle persone questa soluzione sarebbe stata soddisfacente ma i giapponesi hanno trovato il modo di apportare un kaizen aggiuntivo infatti come dice Ron nel capitolo 7 i giapponesi trovano sempre modi per innovare ora hanno messo a punto un sistema portatile ricaricabile che aspira la plastica dall'ombrello quando esce al negozio così non devi mai toccare la busta di plastica questo rende il processo facile divertente e riduce ulteriormente la possibilità che la plastica non venga gestata nel cestino per il riciclaggio anche se questo popolo sembra che abbia una notura sommessa quando si tratta di nuovi prodotti sono eccitati come bambini infatti anche il nome di questo nuovo dispositivo ha un nome scherzoso e infantile casa vini poi poi casa vuol dire ombrello vini venile e poi poi è il suono del lancio nella spazzatura come accennato in un capitolo precedente Sakichi Toyoda cambiò il nome dell'azienda dal nome di famiglia Toyoda a Toyota questa è solo una differenza di lettere ma questa sottile differenza aveva profonde impiclazioni non voleva che l'azienda riguardasse la famiglia voleva che fosse qualcosa di più grande voleva che l'azienda avesse un impatto sulla società quando si scrivono i due nomi nel sistema di scrittura giapponese Katakana tra i due nomi Toyota e Toyoda c'è una differenza di due tratti il nome della famiglia ha dieci tratti mentre quello dell'azienda ne ha otto per i giapponesi dieci è il numero di completamento mentre otto è un numero incompleto che significa non essere mai soddisfatti e questo ha un aspetto molto sottile ma estremamente importante che sintetizza quello spirito di continua ricerca di un completamento che alla Toyota non vogliono mai raggiungere al centro di formazione della Lexus i nuovi lavoratori apprendono un concetto potente se il lavoratore sente qualcosa di diverso vede qualcosa di diverso odora qualcosa di diverso o sente qualcosa di diverso o ha un sapore diverso non importa quanto piccolo o sottile deve fermarsi chiamare e aspettare sono istruite a essere ipersensibili alle cose più piccole in modo che possano trovare più precisamente i problemi questo concetto di ferma ti chiama e aspetta è inculcato in loro di continuo perché? perché per ogni essere umano è contro natura tirare l'hand on la corda che arresta l'intero circlo di produzione tuttavia questo è esattamente quello che vuole l'azienda nel Toyota Production System quando un dipendente individua un'anomalia anche se minima deve interrompere l'intera linea di produzione questo è esattamente quello che ha fatto Susan quando ha riscontrato una sottile rigidità nella maniglia del nostro bagno per la maggior parte della mia vita ero stato come un elefante in una cristalleria ma da quando ho imparato e capito come pensano i giapponesi ho apprezzato i vantaggi di essere raffinati anziché muscolosi quanto sei sensibile alle sottigliezze della tua vita? quando penso al sottile in relazione al Giappone penso all'armonia e al flusso i giapponesi sono molto sensibili al mantenimento dell'armonia e del flusso una volta ho visto un bidone della spazzatura in una stazione di servizio che aveva un pannello trasparente e sacchi della spazzatura trasparenti in modo che si potesse vedere da lontano se dovevano essere svuotati o meno questo pannello semplice e chiaro che non avevo mai visto prima consente l'armonia perché non c'era spazzatura che traboccava dal cestino quante volte hai visto bidoni della spazzatura stracolmi che hanno un disperato bisogno di attenzione lo stesso pannello trasparente consente al lavoratore di muoversi liberamente in tutta l'area di servizio ed eseguire il proprio lavoro senza movimenti inutili se presti attenzione quando cammini per le strade del Giappone sia a Tokyo sia in altre piccole città noterai che non ci sono molti bidoni della spazzatura questo perché tempo fa un terrorista ha messo un ordigno esplosivo in un bidone della spazzatura pubblico da allora i funzionari hanno deciso di eliminare i bidoni della spazzatura pubblici in particolare nelle aree trafficate questo ha avuto una conseguenza non voluta il fatto che non sia facile trovare un posto dove smaltire gli oggetti ha indotto le persone a pensare con più attenzione alla spazzatura che generano portare un bicchiere di carta o qualsiasi altra cosa che potrebbe finire a essere buttata non è così facile da straniero questo ha avuto un profondo impatto su di me in qualsiasi altro paese non starei a pensare a quello che porto con me in giro se poi devo buttarlo al contrario in Giappone ci penso mentre esco dalla porta e questo mi fa essere più consapevole della spazzatura che produco in Giappone c'è la costante consapevolezza che i rifiuti prodotti da questa generazione hanno un effetto sulle generazioni future e le stesse sottigliezze si possono notare visitando il centro di formazione della Lexus quando guardi tutti i Karakuri che sono forme di automazione senza alimentazione che hanno implementato è facile creare automazione con motori o elettricità ma prova a crearla usando l'energia che eserciti sollevando o calpestando qualcosa questa è la definizione stessa di sottigliezza questo richiede una grande abilità finezza e pensiero profondo un esempio di Karakuri è lo sfruttamento del campo magnetico creato dal movimento di un operaio che preleva una piastra metallica questa forza magnetica spinge in posizione la piastra successiva in modo che il lavoratore non debba faticare per prenderla la troverà nel posto preciso e nella posizione precisa consentendo così flusso e armonia gli operai della Toyota hanno anche sviluppato guanti speciali con magneti che consentono di prendere il numero preciso di viti che servono per un lavoro quasi tutti i bagni pubblici hanno le tazze con il bidet incorporato con addirittura un pulsante che produce il suono di un ruscello mascherando così rumori meno piacevoli un altro pulsante di odore all'ambiente forse la mia sottigliezza preferita che illustra questo concetto è il cloud lift quella forma tipica dell'architettura giapponese che si ispira alle nuvole se guardi le nuvole sono generalmente molto morbide e i bordi si alzano e si abbassano i giapponesi hanno preso questo elemento e lo hanno incorporato nella loro architettura e nel design a loro piace molto l'idea di essere in armonia con la natura anziché costringere i loro progetti a competere con la natura come ho detto prima i giapponesi hanno capito che ha più senso cooperare anziché competere se ti fermi a pensarci la natura interpreta questo concetto in un modo impressionante ricordo di essermi registrato in un onsen che sono dei bagni termali caldi e dietro la scrivania della reception c'era una finestra che andava dal pavimento al soffitto permettendo alla bellissima foresta circostante di muoversi attraverso la hall e avvolgere gli ospiti non ho mai visto nulla di simile in nessun'altra parte del mondo anche se alcuni non saranno d'accordo con me per me era un classico esempio della sottigliezza che si manifesta nel pensiero giapponese perché bloccare l'esterno dall'interno al contrario unisci l'insieme in un avvolgimento continuo i giapponesi sono giardinieri magistrali sensibili ai minimi dettagli se osservi un giardino giapponese vedrai che le linee sono generalmente scorrevoli e non ci sono angoli netti e definiti in natura non è normale trovare angoli duri e affilati la natura ha un modo per ammorbidire in bordi i fiumi scorrono e si adattano alla topografia al contrario quando si tratta dell'architettura europea non è raro vedere linee dritte e nette in particolare quando si guarda al paesaggio europeo ovviamente non ci sono assoluti quello che sto cercando di illustrare è il modo in cui pensano i giapponesi una volta ero nel nord del giappone nella zona di Hokkaido stavo su un passo di montagna e il vento soffiava tra le nuvole sopra le cime delle montagne creando un effetto di sollevamento e caduta era uno spettacolo magnifico quando piloto un aereo non è raro vedere una nuvola lenticolare che illustra chiaramente il sollevamento e la caduta che si verificano in natura ho imparato a conoscere il concetto di cloud lift quando avevo vent'anni e lavoravo alla costruzione di case stile artigiano a Pasadena in California c'erano due fratelli Charles e Henry Green che erano stati i principali designer di casa e costruttori all'inizio del 1900 i fratelli avevano fatto un lavoro magistrale incorporando l'architettura giapponese con il calore di bungalow inglesi il risultato fu un tipo di case che enfatizzavano l'artigianato e la qualità nell'estetica incorporarono il cloud lift in ogni elemento del loro design sia all'esterno delle loro case sia nei mobili che progettarono e costruirono da giovane mi sono innamorato del cloud lift e ho iniziato a incorporarlo nei mobili che costruivo l'ho anche incorporato nel design della mia casa adoro questo elemento che i giapponesi hanno osservato e fatto proprio che la natura presenta un sollevamento e una caduta naturali è un aspetto talmente sottile che la maggior parte delle persone potrebbe non accorgersene mai tuttavia questi piccoli dettagli rendono la cultura giapponese estremamente affascinante quando diventi più sensibile a questo tipo di dettagli questa forma di pensiero inevitabilmente influenzerà altre cose che fai se cammini in uno stabilimento della toyota puoi vedere la loro sensibilità applicata al piano di produzione nella catena di montaggio quando un operaio ha bisogno di un avvitatore questo gli viene consegnato esattamente al momento giusto in modo che faccia il minimo movimento per usarlo non devono neanche muovere i piedi dopo che l'avvitatore si è spostato nella posizione ottimale questo torna indietro in modo che il lavoratore possa passare a un altro compito tutto questo avviene in meno di due secondi la maggior parte di noi penserà qual è il problema basta allungare un piede in più perché spendere tutto quel tempo a sviluppare qualcosa che faccia oscillare la pistola esattamente al momento giusto in modo che il lavoratore non debba sforzarsi i giapponesi sembrano apprezzare le sottigliezze è una danza tra le mani dell'artigiano il materiale e il prodotto finale ogni volta che ritorno in giappone sono sempre in allerta per osservare le sottigliezze che ancora mi sorprendono dopo quasi vent'anni dalla mia prima visita mi mettono costantemente un sorriso sul viso mentre mi meraviglio del pensiero profondo della cura e dell'attenzione che stanno dietro ciascuna delle sottigliezze che osservo immagina di ricevere il comando minaccioso da tuo padre dai pulire la tua stanza ora e confrontalo ora con tuo padre che invece ti fa un sottile commento di passaggio che mette in moto la tua mente come ho sentito che Winnie Pooh ama avere una stanza pulita e ordinata sebbene la differenza tra le due tecniche non sia sottile il secondo approccio lo è i giapponesi hanno preso dei concetti di sottigliezza e ne hanno fatto una pietra angolare e del modo in cui svolgono piccoli compiti umili e nel modo in cui eseguono ogni cosa con maestria l'idea chiave Winnie Pooh ama avere una stanza pulita e ordinata capitolo 12 la cultura del riso il mio amico il dottor Ken Snyder mi ha insegnato molto sulla cultura giapponese avendo vissuto e lavorato in giappone per molti anni è diventato una vera autorità sia sul giappone sia sul Toyota Production System in una recente conferenza ha articolato il concetto di una cultura del riso Ken ha spiegato che a causa dei limitati terreni agricoli del giappone hanno dovuto sviluppare modi molto efficienti per coltivare e raccogliere il riso quando cerchi di nutrire più di 127 milioni di persone e hai a disposizione un'area coltivabile di dimensioni ridotte devi essere veramente efficiente nel corso dei secoli i giapponesi hanno sviluppato tecniche che producono più riso che in qualsiasi altra parte del mondo si torna a perfezionare il processo e ad avere una mente kaizen l'attenzione ai dettagli dei coltivatori di riso è sorprendente non c'è spazio per alcun errore la precisione deve essere assoluta inoltre è fondamentale che tutti lavorino insieme come una squadra si pianta insieme e si raccoglie insieme qualsiasi deviazione dalla coordinazione e dalla precisione potrebbe affamare la tua comunità e la tua famiglia se non sei disposto a cooperare con il modo di pensare kaizen sei espulso dal villaggio questa mentalità della cultura del riso ha influenzato il modo in cui le aziende pensano e lavorano insieme è l'essenza stessa stessa di come sono sovravvissuti i giapponesi quando ho chiesto al presidente della moltec il signor matsumoto come seleziona i nuovi dipendenti mi ha risposto persone che non romperanno l'armonia in altre parole persone che credono in ciò in cui crediamo e che apprezzano ciò che apprezziamo persone che vogliono entrare a far parte della nostra famiglia e a contribuire in modo armonioso perché dovresti assumere qualcuno e poi dover lottare contro di loro perché non sono d'accordo con il modo in cui organizziamo la nostra azienda questo è il pensiero della cultura del riso mi sono spesso chiesto se i leader giapponesi quando condividono le loro intuizioni pensano non importa quello che ti diciamo perché non hai una cultura del riso avere le risposte senza la cultura di supporto è proprio come fare la pipì contro vento hai una mentalità da cultura del riso? io lo faccio e adoro farlo amo i vantaggi di questo amo la premura amo il fatto che differenzi completamente la mia vita da quella degli altri durante le two second lean japan experience la maggior parte dei partecipanti è in soggezione per la premurosità della cultura giapponese la conclusione più comune è che sono giapponesi e questo non funzionerebbe mai nel loro paese tuttavia il problema sta più nella loro forma di pensare che non nel loro paese di origine se rivedessero le loro ipotesi e convinzioni potrebbero raggiungere risultati straordinari la maggior parte di noi pensa che si tratti di una questione genetica ma secondo me è pensiero a lungo termine per la sopravvivenza i giapponesi pensano a lungo termine in modo da poter garantire la sopravvivenza noi invece siamo abituati a pensare a breve termine perché la sopravvivenza è praticamente una cosa che diamo per scontata per i giapponesi la vita è fragile e non ci sono garanzie se siamo diligenti la maggior parte di noi pensa ai prossimi cinque anni mentre i giapponesi pensano ai prossimi cento anni ho avuto modo di vedere da vicino questo pensiero a lungo termine quando ho soggiornato nell'hotel più antico del mondo il Nishiyama Onsen è stato fondato nel 705 d.C. ha operato ininterrottamente per oltre 1300 anni da 52 generazioni e questo è pensare a lungo termine questo è il pensiero di sopravvivenza è interessante notare che il giappone ha il maggior numero di aziende pro capite con più di 100 anni la differenza nel loro modo di pensare dovrebbe indurci a fare una pausa e chiederci qual è il nostro vero scopo sulla terra a cosa stiamo pensando oggi domani o tra 52 generazioni il pensiero a lungo termine ha profondamente influenzato il modo in cui gestisco la mia azienda negli ultimi 19 anni ho ricostruito e rinnovato tutto ciò che riguarda la fastcap non sto parlando di una ricostruzione fisica anche se abbiamo fatto anche quella sto parlando di ricostruire e rinnovare il nostro pensiero chiunque visita la fastcap rimane sbalordito la maggior parte di loro non ha mai visto niente di simile a meno che non siano stati in Giappone tutti lavorano insieme con l'obiettivo comune di migliorarsi a vicenda in modo da poter servire meglio i nostri clienti interni ed esterni non ci sono slogan sui muri e nessun poster che ammonisca le persone a pensare in modo diverso invece insegniamo e formiamo le nostre persone ogni giorno il nostro incontro martutino è un'inversione profonda nella filosofia dell'eccellenza operativa e nei principi della grandezza storica questi principi sono presenti all'interno di ogni membro del team e forniscono una luce guida per ogni decisione che prendiamo un altro esempio di come io vivo del pensiero a lungo termine è casa mia l'ho costruita su una tenuta di oltre 10 acri interamente in stile giapponese la cui manutenzione richiede enormi cure e lavoro anche se ho impiegato il pensiero Lean per rendere gestibile la manutenzione ho pensato che la mia casa sarebbe stata il perfetto Lean Institute un luogo dove le persone possono venire a conoscere il mio lavoro e tutte le incredibili influenze del pensiero giapponese la mia idea è stata di istituire un vero e proprio ritiro un luogo dove sia possibile praticare la riflessione profonda e l'apprendimento in un contesto di bellezza e di serenità voglio ribadire che non penso a una sola ma ad almeno 10 generazioni da oggi non sarebbe incredibile se questa idea filosofica su come vivere la tua vita potesse avere un impatto duraturo lontano dall'isola del Giappone il popolo giapponese ha la straordinaria capacità di applicare la riflessione profonda agli elementi più importanti della vita il modo in cui le persone lavorano e vivono insieme senza dubbio la loro cultura ha dimostrato di essere una delle più avanzate e sofisticate offrendo il più alto standard di vita che il mondo abbia mai visto ancora più sbalorditivo è il modo in cui hanno ottenuto questi risultati straordinari mentre molti dei loro vicini asiatici erano relativamente dormienti la maggior parte degli altri paesi asiatici infatti è rimasta molto indietro è solo negli ultimi 20 anni che la Cina ricca di risorse sia naturali che umane si è sviluppata in modo significativo gli unici altri paesi degni di nota sono Singapore e la Corea tutti e tre questi paesi fanno regolarmente pellegrinaggi in Giappone per studiare ed emulare i giapponesi è anche degno di nota che il Giappone è una democrazia e fornisce una piattaforma più ampia per la diversità di pensiero rispetto a Singapore o alla Cina questa diversità di pensiero avrebbe potuto facilmente avere un effetto deleterio sulla loro cultura perché non c'era un uomo forte a dentare come metterlo in pratica tuttavia i giapponesi sono riusciti a sostenere le loro basi culturali nonostante la rapida globalizzazione delle economie mondiali degli ultimi 50 anni in parole povere quando vai in Giappone sai di essere in Giappone la primura di questa civiltà è stata minimamente influenzata dalla straordinaria connessione che esiste nel mondo di oggi come e perché sono riusciti a farlo nel resto del capitolo spiegherò la mia opinione su ciò che sostiene questa cultura racconterò alcune delle mie esperienze più profonde e la comprensione che ho acquisito lungo la strada in primo luogo come ho già affermato in precedenza il Giappone è sinonimo di qualità i giapponesi sono in grado di ottenere una qualità assoluta grazie alla loro attenzione ai dettagli che gli permette di lavorare comodamente in un ambiente molto preciso è come se l'intera cultura avesse lenti di ingrandimento giganti per vedere cose che al resto di noi abitualmente sfuggono una volta durante una visita a un'azienda di prefabbricati in calcestruzzo a Kyushu in Giappone sono rimasto sbalordito dalla qualità e dalla precisione del loro lavoro ricorda sto parlando di prefabbricati in calcestruzzo che sono grandi forme strutturali che non avrebbero motivi validi per essere esteticamente perfette ma queste lo erano avevano una perfezione estetica fino al minimo dettaglio ho visto operai che riempivano fori minuscoli quanto la testa di spillo in enormi colonne e lastre di cemento che sarebbero state utilizzate per sostenere parcheggi e muri di sostegno altri lavoratori pulivano e scartavetravano le lastre a mano altri tagliavano via minuscoli pezzi di cemento sui punti di connessione delle armature prestando meticolosamente attenzione ai più piccoli dettagli tutti questi operai lavoravano diligentemente con attenzione e con il sorriso sui loro volti profondamente orgogliosi del lavoro che stavano facendo non c'era una sola persona al cellulare o distratta da nulla o da nessuno compresi noi tutti avevano una concentrazione totale una dedizione totale un'attenzione totale ai dettagli e alla qualità non ho mai visto un supervisore che li osservava per assicurarsi che eseguissero il loro lavoro secondo uno standard particolare invece erano ben addestrati e svolgevano il loro lavoro con una dedizione assoluta quando ho chiesto al presidente dell'azienda perché erano così maniaci per la precisione e per la qualità mi rispose perché vogliamo che il cliente si fidi di noi non stiamo cercando di conquistare la loro fiducia per il prossimo lavoro ma vogliamo la loro fiducia e il loro business tra 5 10 40 anni 100 anni gli chiesi perché è così importante avere la fiducia dei clienti disse perché vogliamo sopravvivere la precisione porta alla qualità la qualità porta alla fiducia la fiducia porta alla sopravvivenza e questa è la chiave per comprendere il modo di pensare giapponese questa stessa azienda è stata beneficiaria di un gruppo di studio della Lexus la Lexus ha istituito gruppi di studio per le aziende che desiderano migliorare i propri processi imparando il Toyota Production System la Lexus invia rappresentanti per lavorare con le aziende anno dopo anno affinché sviluppino i loro processi riducano i difetti e migliorino la qualità queste aziende non hanno nulla a che fare con l'industria automobilistica la Lexus fa questo per aiutare la loro comunità e per aiutare la società in generale in cambio la Lexus ottiene il vantaggio di vivere in una società e su un'isola dove ci sono persone più riflessive un altro aspetto positivo per la Lexus è che i suoi dipendenti diventano migliori comunicatori migliori insegnanti e promotori dell'eccellenza e lo stesso avviene nella mia azienda mentre la maggior parte della gente è sconcertata dai milioni di dollari che la FastCap spende per insegnare e formare il mondo sui concetti Lean to Second Lean e il Toyota Production System siamo consci del fatto che siamo noi i veri beneficiari perché le nostre persone sono profondamente orgogliose del lavoro che svolgono e sono gratificate dall'essere in grado di aiutare altre persone da tutto il mondo diventiamo sempre migliori comunicatori insegnanti collaboratori e leader di pensiero inoltre a livello personale sono molto più soddisfatto che il mio lavoro abbia aiutato così tante persone non è la dimensione del mio conto in banca che mi dà gioia ma la dimensione della rete di persone premurose in tutto il mondo che conosco è che chiamo i miei amici questo è ciò che amo del Giappone e in particolare di Lexus e Toyota questo è quello che ha sempre fatto Steve Jobs pensare diversamente anche la Fatscap pensa diversamente facciamo l'opposto di quanto suggeriscono le pratiche commerciali comuni non stiamo pensando a noi stessi o al risultato finale abbiamo abbracciato pienamente un modo diverso di pensare il Giappone è un'isola gallecciante nel Pacifico martoriata da dure condizioni geologiche e climatiche e che costantemente lotta per sopravvivere per i giapponesi la vita è una sfida che richiede una mente kaizen la stragrande parte del paese è montuosa e non abitabile la pianura è molto scarsa e preziosa quindi non possono permettersi di sprecare un solo centimetro quadrato di conseguenza la maggior parte della popolazione vive nelle zone costiere inoltre il Giappone ha un'area del 20% in più rispetto all'Italia ma ha circa il doppio degli abitanti pertanto la sopravvivenza è l'elemento portante del pensiero giapponese anche se hanno raggiunto un certo successo economico non hanno permesso a questo lusso di renderli pigri o compiacenti invece perseverano nella loro mentalità di sopravvivenza perché indipendentemente dal loro successo una catastrofe potrebbe essere proprio dietro l'angolo nella maggior parte delle culture man mano che vengono acquisiti più agi e lusso c'è la tendenza a generare passività e pigrizia i giapponesi non hanno ceduto a questo più hanno successo e più lavorano duramente e mostrano più premura in ciò che fanno i giapponesi hanno imparato dagli errori del passato durante la seconda guerra mondiale fecero l'errore irrazionale di attaccare il più grande paese del mondo che era la Cina e il paese più potente del mondo gli Stati Uniti la loro sconfitta fu disastrosa ma una volta che si sono arresi hanno fatto un profondo Hansei per i giapponesi è il riconoscimento degli errori e hanno sostituito l'irrazionale con il razionale sono andati fino al bordo di una scogliera hanno guardato l'abisso davanti a loro e a livello sia sociale sia collettivo hanno detto mai più la sopravvivenza è fondamentale e si comportano con questo pensiero razionale a lungo termine nel corso di una visita a un fornitore di primo livello della Lexus osservai che stavano misurando un sesto di secondo in un processo chiesi al presidente se il dover prestare attenzione a questo livello di dettaglio gli causasse stress mi rispose noi giapponesi non conosciamo la parola stress se non facciamo così non sopravviviamo la Cina è un giorno da noi mentre ha settimane da voi negli Stati Uniti per questo noi abbiamo un livello di urgenza completamente diverso dal vostro la seconda ragione è che sono naturalmente schivi non si ritengono mai abbastanza bravi questo è un aspetto della loro cultura che hanno conservato nel tempo e gli rende frutti ancora oggi facendo sì che siano costantemente curiosi e mai soddisfatti appieno qualche anno fa ho organizzato un tour negli Stati Uniti per Ritsu Oshingo il figlio di Shigeo Oshingo di cui ho parlato in precedenza gli feci visitare una decina di aziende che ritenevo avrebbero tratto beneficio dalla sua analisi dei loro processi aziendali al termine del tour gli chiesi la sua opinione per prima cosa gli chiesi quale fosse l'azienda che lo aveva colpito di più e quella che lo aveva colpito di meno la sua risposta si incentrò tutta su un chiodo fuori posto spiegò che in una delle aziende che aveva visitato aveva visto un chiodo che attraversava una trave di legno e uscita dall'altra parte Ritsu Oshingo chiese loro perché c'era un difetto e loro risposero che non importava nessuno l'avrebbe visto Ritsu Oshingo gli disse che non è corretto perché la qualità sta anche nelle parti che non si vedono la qualità deve estendersi all'intero progetto poi ha continuato a chiedere perché il chiodo era uscito dal legno gli risposero perché c'era un nodo nel legno ma perché c'era un nodo nel legno perché non avevano visto il nodo prima di installare il rivestimento in legno ma perché ordinate materiale con i nodi perché il fornitore ci ha dato legno con i nodi Ritsu Oshingo gli disse che bisognava andare a monte alla fonte del problema è qui che inizia la qualità e da dove scaturisce la precisione abbiamo continuato a discutere del motivo per cui questo è importante e con mio grande stupore Ritsu Oshingo mi ha spiegato a fondo la profonda comprensione che avevo imparato ad amare e ad apprezzare del Giappone la qualità porta alla fiducia e la fiducia porta alla sopravvivenza sono profondamente consapevole che non c'è certezza che tutto il lavoro e gli sforzi che ho fatto nella mia vita dureranno nel corso della mia vita per non parlare delle generazioni a venire tuttavia mi sono reso conto con certezza che un individuo un'organizzazione o una società che si concentra sulla qualità ha un problema di sopravvivenza molto più alta il percorso specifico per sopravvivere è amare la precisione che elimina i difetti meno difetti e una qualità superiore portano a clienti che ritornano generazione dopo generazione quello che fa tornare i clienti è la qualità non ottimi programmi di marketing e vendite la qualità crea una fiducia basata sulla natura affidabile e prevedibile di una relazione esistono tantissimi enigmi sul Giappone ma forse il più grande di questi sta nel fatto che nonostante la loro ossessione per la sopravvivenza i giapponesi hanno creato una cultura che gli consiente di vivere a un livello che va ben oltre il semplice sostentamento pensa alla creatività che può fiorire in un ambiente in cui non sei ossessionato dalla sopravvivenza ma sei ossessionato dai dettagli su come sopravviverai i dettagli dei processi creano abbondanza e consentono di impostare un modello che rende più probabile la sostenibilità ma allo stesso tempo richiede e promuove la creatività domandati cos'è più importante la sopravvivenza o i dettagli di come sopravviverai e questa è la mia tesi abolisci la sciatteria e innamorati della precisione l'idea chiave la sciatteria è la garanzia sicura che la sopravvivenza non è garantita capitolo 13 la mia parola preferita potrei deliziarti con tantissime storie sull'unicità della cultura giapponese ciascuna delle mie esperienze ha modellato lentamente e metodicamente la mia opinione su cosa sia il Giappone credo che troverai tutte queste esperienze interessanti e di supporto alla mia tesi tuttavia lo scopo di questo libro non è quello di dirti tutto ma di stuzzicare il tuo appetito e stimolare la tua curiosità nella speranza che tu possa trovare qualche beneficio nell'impiegare elementi del pensiero giapponese nella tua vita penso che anche la tua vita sarebbe più ricca se riesci a visitare il Giappone per studiare e conoscere questa cultura affascinante al momento della stesura di questo libro ho condotto più di 500 persone da tutto il mondo in viaggi di studio in Giappone ho attraversato il Giappone su treni aerei automobili e persino motociclette ho incontrato e lavorato con alcuni dei massimi leader e pensatori ho guidato gruppi attraverso fabbriche aziende cantieri per dimostrare illustrare e confrontare ciò che rende la cultura giapponese così unica ho visto persone letteralmente in lacrime e senza parole dopo essere uscite dalle strutture di Toyota e Lexus scuotendo la testa increduli affermando che ciò che avevano visto era impossibile tuttavia di tutti i luoghi e tutti gli impianti di produzione che ho mostrato alle persone niente ha avuto un impatto maggiore o duraturo che visitare una scuola elementare giapponese è qui che tiriamo indietro il sipario per capire questa cultura incredibile sono i bambini del Giappone che crescono per diventare i leader che sosterranno questa cultura a scuola non gestiscono il ritardo o il comportamento scorretto degli studenti non lusingano né incitano o implorano i bambini affinché si comportino bene e studino non devono punire i bambini per bullismo o per un'ossessione malsana per i loro telefoni cellulari hanno una politica di tolleranza zero per il bullismo e anche per i telefoni cellulari che non sono amessi allo stesso tempo puoi vedere adulti riflessivi calmi e razionali che trattano i bambini come fossero adulti ogni giorno i bambini si uniscono per imparare per crescere e per migliorare nelle scuole giapponesi non esistono custodi e ogni giorno si svolge un kata una routine i bambini fanno le pulizie a partire da gabinetti ai lavelli la caffetteria i corridoi le finestre gli spogliatoi il cortile i giardini e così via nella maggior parte dei paesi questo sarebbe considerato abuso di minori in giappone questo tipo di lavoro invece nasce dalla filosofia di questa cultura che ha un profondo rispetto per le persone e per le cose quando è l'ora del pranzo inizia la magia centinaia di studenti entrano nella mensa ordinati e con educazione si siedono rispettosamente mentre il loro capogruppo gli servono il pranzo quando tutti sono stati serviti viene fatta la preghiera di gratitudine e infine uno studente spiega qual è il cibo che stanno per mangiare e il nutrimento che trarranno dal cibo solo allora cominceranno a mangiare mostrando rispetto per tutti i commensali da notare che il cibo è assolutamente sano non ci sono bevande zuccherate né dolci pieni di zucchero ma ci sono solo verdure sane riso e pesce da mangiare e latte da bere ogni bambino mangia il cibo che gli viene dato e se non è in grado di mangiare tutto prima di toccare il piatto si alza in piedi e si avvicina all'area di servizio del cibo e spiega rispettosamente che cosa vorrebbe fosse rimosso dal piatto in modo che non venga sprecato nulla alla fine del pasto tutti lavorano insieme per ripulire l'intera mensa la cosa impressionante è che non c'è mai alcun cibo sprecato non c'è alcun bidone della spazzatura dove viene smaltito il cibo che non è stato consumato quello sarebbe un motainai voglio concludere questo libro spiegando la mia parola giapponese preferita la parola che ha avuto un impatto più profondo sul mio pensiero motainai significa semplicemente provare un profondo senso di rimpianto quando si spreca qualcosa se lasci un chicco di riso nel piatto quello è un motainai se lasci scorrere l'acqua quando ti lavi i denti è un motainai è straordinario vedere come i giapponesi dimostrano sin da bambini di avere una gestione coscienziosa delle risorse che hanno ricevuto anche se si tratta di un semplice chicco di riso da quando ho imparato questa parola motainai e ne ho visto il significato profondo nelle scuole del Giappone il mio pensiero è cambiato per sempre in tutto quello che faccio mi risuona nelle orecchie la parola motainai che peccato sprecare cose perché dovrei gettare nella spazzatura lo sforzo che il contadino ha speso per fornire il cibo perché dovrei sprecare le preziose risorse del mio paese perché dovrei essere così incurante del tempo e della primura di un altro essere umano a mio favore questo è il pensiero motainai e questo pensiero mi ha cambiato per sempre una volta ho intervistato una suola che era l'amministratore capo di una scuola cristiana in Giappone il fatto che ci siano scuole cristiane in una cultura che è in gran parte shintoista e buddista dovrebbe far riflettere tutti quanti come è possibile ogni giorno i bambini imparano a conoscere il cristianesimo dicono il pane del nostro eppure non sono cristiani questo è un enorme enigma così difficile da capire ma così giapponese imparano altre culture lingue e religioni e fanno tutto con il sorriso sui loro volti non sono minacciati dall'idea che il cristianesimo si possa diffondere rapidamente nel loro paese invece cercano di elevare il loro pensiero e la loro comprensione nell'imparare a conoscere altre culture i cristiani che gestiscono queste scuole non impongono le loro pratiche religiose ai bambini ma gli insegnano e li addestrano rispettosamente in qualsiasi altra cultura ti aspetteresti una sorta di tensione o un atteggiamento ostile verso altre culture e credenze ma in Giappone non è così mentre camminavamo lungo i corridoi e guardavamo i bambini che pulivano allegramente all'intera scuola mi sono fermato per salutare la madre superiora e per farle alcune domande le chiesi perché le piacesse il Giappone mi spiegò che aveva vissuto lì per 40 anni ed era originaria del Canada mi disse il Giappone è un paese sicuro pacifico e affascinante mi piacciono molto le persone e sono brave persone bravissime persone quando torna dai viaggi che fa periodicamente in Canada dice sempre alla gente sono tornato a casa c'è qualcosa di molto speciale in questo paese tutto si riduce a un singolo chicco di riso perché dovresti gettare un solo chicco di riso nella spazzatura quel singolo chicco rappresenta lo sforzo di un singolo individuo che ha piantato il seme lo ha nutrito irrigato raccolto e trasportato nei villaggi nelle scuole e nelle città di tutto il paese avvolta a quel singolo chicco di riso c'è la parola Mottainai il peccato di sprecare qualcosa addirittura un singolo chicco di riso è con questa idea unica che questa cultura e questo paese si sono differenziati dal resto del mondo è con questa idea unica che la mia vita e la mia azienda si sono trasformate la Toyota ha capito che non potevano sprecare e sopravvivere allo stesso tempo dovevano trovare un modo per eliminare i rifiuti da tutti i loro processi questa eliminazione degli sprechi non era un processo settimanale o mensile ma un processo quotidiano che richiedeva la partecipazione totale di tutti i membri dell'organizzazione eliminiamo questo spreco attraverso il kaizen quotidiano e il principio fondamentale che ci spinge a eliminare questo spreco è Mottainai infine sono profondamente grato al popolo giapponese per tutto ciò che mi ha insegnato in fondo sono persone molto semplici che hanno implementato una filosofia di vita bella efficace e semplice ma che gli consenta allo stesso tempo di implementare sistemi sofisticati che migliorano la vita di milioni di persone è la semplicità dell'insegnamento della gratitudine con qualcosa di fondamentale come l'Itadakimasu la breve preghiera che dicono prima di ogni pasto e questo è ulteriormente supportato da una mentalità Mottainai perciò vieni in Giappone per vedere di persona e in profondità questa straordinaria cultura forse anche tu camminerai per strada e viverai un momento di Satori questa illuminazione improvvisa per me il Satori di abolire la sciatteria e di innamorarmi della precisione ha dato inizio a uno dei viaggi più importanti della mia vita la mia speranza e la mia preghiera è che questo libro possa dare inizio a un viaggio nella tua vita che crei maggiore realizzazione e rispetto per l'abbondanza e le benedizioni che tutti quanti abbiamo ricevuto l'idea chiave Mottainai che peccato sprecare qualcosa capitolo 14 conclusione spero che questo libro ti sia piaciuto per me è stato molto importante scriverlo come commento da Dio voglio dire che se lo leggi e lo impari non diventerai perfetto e preciso in un colpo solo questo è un viaggio che dura tutta la vita ci saranno ancora montagne di sciatterie e sprechi in tutto quello che fai tuttavia la cosa più importante è che inizi questo viaggio oggi quando inizi a essere più premuroso e preciso in tutto ciò che fai diventerai un amministratore migliore delle risorse che ti sono state affidate ricorda non si tratta di perfezione si tratta di iniziare il viaggio verso la perfezione questa è la gioia che provo ogni giorno sapendo che sono più attento ai doni che mi sono stati dati sprecare le risorse non giova a nessuno ma il buon pensiero va vantaggio di tutti l'idea chiave buon pensiero buona vita qui termina la lettura del libro abolire la sciatteria di Paul Akers per ulteriori risorse se il video vai su paulakers.net Paul Akers è il fondatore e presidente della FastCap una società di sviluppo e produzione di oggetti e ferramenta innovativi per la costruzione la FastCap ebbe inizio nel garage di Paul nel 1997 quando inventò il suo primo prodotto il cappuccio di copertura FastCap da quegli inizi umili oggi la FastCap ha migliaia di distributori in oltre i 40 paesi del mondo ogni anno FastCap mette sul mercato dai 20 ai 30 nuovi prodotti innovativi e ha vinto il premio per l'azienda dell'anno nel 1999 e nel 2010 nel giugno 2011 Paul ha vinto il prestigioso premio esecutivo dell'anno della Seattle Business Magazine in quell'anno ha anche scritto il suo primo libro Two Second Lean su come creare una cultura lean divertente ora disponibile in 14 lingue e che è stato riconosciuto dallo Shingo Institute e ha vinto il premio per la ricerca e la pubblicazione professionale nel 2015 ha scritto il suo secondo libro Lean Health che è questo salute lean nel 2016 Lean Travel viaggiare lean e nel 2019 Lean Life vita lean nel 2019 è stato anche pubblicato il suo nuovo libro Banish Sloppiness che è aboliamo l'approssimazione Paul ha imparato ad abbracciare l'avventura e a perseguire l'eccellenza da suo padre quando ha guadagnato il grado di Eagle Scout alla giovane età di 14 anni all'età di 15 anni Paul costruì una chitarra nella bottega di falegnameria del liceo guadagnando l'attenzione di Bob Taylor fondatore di Taylor Guitars e un vero innovatore americano Bob Taylor assunse Paul il giorno in cui si diplomò agli superiori e gli fece da mentore nell'osservare da vicino Bob Taylor che cambiava l'industria delle chitarre Paul ricevette un'implonta profonda e durevole nel 1983 Paul si è laureato con l'Ode in scienze dell'educazione alla Biola University Paul ha lavorato a Pasadena restaurando alcune delle più prestigiose case storiche e divenne parte di un gruppo esclusivo di artigiani che costruirono la casa per l'editore di Architectural Digest in seguito ha insegnato arte industriale alla Mark Keppel High School di Alhambra in California dove il suo pensiero innovativo ha portato allo sviluppo di un programma incentrato sull'insegnamento della costruzione di mobili anziché di piccoli oggetti qualche anno dopo Paul si è catapultato nel mondo degli affari quando la sua abilità nel risolvere i problemi ha portato a un'invenzione e quindi alla sua attività di produzione attraverso una serie di colpi di scena scoprì Lean e il Toyota Production System che fu determinante nel promuovere Fast Cap come esempio di produzione cultura Lean seguito da migliaia di aziende in tutto il mondo nel 2010 Paul si è candidato al Senato degli Stati Uniti nello Stato di Washington e il suo programma era basato su una piattaforma Lean per trasformare il governo dando potere alle persone dopo le elezioni Paul ha continuato a lavorare con varie aziende governative insegnando loro il pensiero Lean e aiutandole a creare una cultura Lean nel 2013 Paul è stato invitato a tenere un discorso TEDx sulla innovazione nel 2017 Paul è stato selezionato come il terzo leader del pensiero individuale e influencer nello stato globale di eccellenza operativa sfide critiche e tendenze future sempre nel 2017 Paul è stato onorato di documentare Bob Taylor nel suo World Forestry Tour in cui un piccolo team ha viaggiato in tutto il mondo per aumentare la consapevolezza delle pratiche forestali sostenibili Paul è un appassionato di sport che pratica surf corre nuota va in bici e ha scalato varie montagne alte più di 4.000 metri tra cui il Monte Kilimanjaro e il campo base dell'Everest Paul è appassionato di fitness e ha completato due Ironman a Lake Placid nello stato di New York e a Vichy in Francia Paul ha il brevetto di pilota d'aerei con strumentazione con oltre 2.000 ore di volo tra cui tre traversate del Nord Atlantico con un monomotore Paul è un oratore energico la cui passione principale è a aiutare le persone a scoprire il loro pieno potenziale e a mostrare agli altri come implementare Lean nelle loro attività e nella loro vita personale la passione di Paul per Lean lo ha portato in tutto il mondo in oltre 102 paesi a lavorare e a tenere conferenze in organizzazioni di spicco come le forze di difesa israeliane Mercedes-Benz Amazon la Marina Americana Turner Construction e molte università dal Kazakistan all'Islanda dalla Tasmania al Giappone Germania Israele Africa Slovacchia non si sa mai dove sia Paul ma di sicuro sta insegnando concetti Lean con passione ed entusiasmo Paul è anche appassionato del Giappone e organizza viaggi in Giappone per andare a visitare la Toyota la Lexus e i loro fornitori per insegnare ad appassionati Lean come lui la filosofia di questo fantastico paese Paul ha migliaia di follower nel suo podcast settimanale The American Innovator dove insegna la potenza dell'innovazione e il pensiero Lean condividendo le sue intuizioni e osservazioni mentre intervista personaggi di spicco documentando i suoi viaggi e le sue avventure in giro per il mondo con fotografie e video sensazionali Paul è sposato con sua moglie Leanne dal 1983 e hanno due figli Andrea e Colby che lavorano con lui alla Fast Cup che è veramente un'azienda a conduzione familiare Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti